Romano mo'l Zè Spoint poi ci farò un video al riguardo Non è vero però Sì Così faccio il monegrabber Spoint e 0.4 Yes Certo Però ragà Dovete abbassare tutto il volume Perché sennò Si fa nella live Si sente Esatto così Bella ragà che sta guardando questa live No no vabbè Oggi E vabbè dai Da quanto è che siamo in live? Cioè vabbè Esatto Già siamo tre spettatori Quindi Viste nel mood Casa ragà Eh certo Ma io Stavo per te sei entrato Mamma mia It's fucking the best play Faccio un blind ragà Faccio un blind Arrivo Arrivo Bravo Ragà però è giusto Grandi negri Non mi sembra la cosa giusta Ma Ragà ho bisogno di colpire il pompa Ho bisogno di colpire il pompa Bella bella Lasciali lasciali Ok Bella bella Fabio Quanto abbiamo di start? 5 kg di start Ragà non male Gli scudini Gli scudini E dammene uno l'uno Vabbè a me due Va vai pezzo pulito Forse a boschetto Nord ovest Al cratere Mi sento a sparare da quelle parti Poi non lo so Vabbè dai bello start Già 5 kg Not bad Not bad Not bad Ragà però beh Devi abbassare un po' il microfono Perché se no Nella live tipo si entra il suo rumore Penso sia abbastanza fastidioso Però non di troppo Come l'avrei fatto l'altra volta Prima Un altro po' Ma Va bene va bene Uh queste mi gustano L'altra volta Samuel è entrato in live Mi fa Mi fa A scarsone Guardate giù non me lo ricordavo Non me ne ricordavo di lui Quindi ho detto Beginto Ce l'ho io già Ce l'ho io beh Se vuole posso dare neanche io Tre colpi il blu Nooo Non mi gusta di queste cose Io non la monta 5 ne ho Eh dai le tuffa Qua ragazzi m4 blu Per chi vuole Dai questa Le bibliopartite facciamo Eh 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 Cosa Sì sì Ma molte volte gioco anche in coppia Qua Eh Poi un po' singolo blu per chi vuole Questa è Questa è The best team Italian World Cup 2009 Sì sì lascio stare perché 2009 Eh non lo so sperare Allora Allora Per vedere quante persone ci sono in live Ci sono praticamente uno spettatore Mamma mia siamo famosi ragazzi Vabbè Cicciogamere live Vabbè fai conto che ancora probabilmente ci sarà cicciogamere in live Quindi E toglie spettatori Qua c'è un boltation per chi vuole va bene uscire la caccia io voglio sentire una cosa come si sente l'audio in live tipo prova 3,2,1 io voglio sentire una cosa come si sente l'audio in live prova 3,2,1 vabbè c'è gente che siete scala vabbè non c'era bisogno di scrivere così ma perché è scritto in chat? quando siamo un canale di non razzistico a Fabio vedete che sti vanno o questo è sì cosa? c'è Fabio come moda e pure un amico ma basta guarda ti elimino pure il messaggio davanti a noi ragazzi a parte lo scherzo nord-ovest nord-ovest sentite sono l'ultimo che si fightano bella ma dove si mi hanno aperto io ho fatto male ragazzi sono giù sono tutti giù sono tutti giù sono perché io ho messo le po- le ecco ragazzi davanti a voi ha atterrato quello da te? vai fatele di tutti bella e infatti è a nord-ovest eh one ragazzi ho bisogno di tutto ho bisogno vi siete fottuti tutti i lutti vi siete fottuti avete avete scildini eh dammi dammi eh sì vabbè dai lascialo ok eh incazzo dimmelo prima vabbè ormai ragazzi i materiali come siete messi? eh legno dammi 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 legno qua broma o asci dai bro dai bro dai non ti avido a parte che non è ho oh raga 9 kg abbiamo eh in totale ferro ferro come siete messi di ferro raga ora in caso entra un mio amico non so se te lo ricordi Riccardo vedi però eh non è male vedi modesto il ragazzo oh raga che fa mi muovete io ho lasciato una benda qua nel cammino per chi vuole eh sì io non ho 200 io ho 200 tanto allora extgamer per partecipare al contest 16 euro è molto semplice comunque davanti a noi 75 ragazzi megafight uno è caduto uno è caduto allora per partecipare al contest è semplicissimo bisogna andare nel video del contest che trovi nella playlist contest appunto andare a vedere il video e capisci tutto no che cosa non c'entresti uh che cosa avevo fatto no 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 noi siamo aggressi capito extgamer poi cioè inserire tanto non mi interessa perché dobbiamo essere le cose giuste dobbiamo essere persone corrette sì sì vai vai Fabio eh benedè benedè devi spammare lanciapatate alla grande eliminati tutti raga da nord ovest teniamo i colli a nord ovest teniamo ragazzi nord ovest nord ovest ragazzi no no terra nuova terra nuova no 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 Fabio no 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 cazzo bella prenditi il loot Fabio stati attento Fabio è atterrato quello da te Fabio pushatelo ucciditelo Fabio fattelo bravo Fabio sopra il fortino Fabio è sceso attento andiamoci 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 vai vai bella anche a me anche a me anche a me per favore Benny quanto te ne ha dati Fabio ne hai altri ne ho zero beh per favore qualcosa ok bella bro va va quanta kill abbiamo Fabio prendi questi fa tipo solo un shieldino beh aspetta calma si 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 tieni beh e vaffanculo a me vieni ci sei tieni qua shield 50 ottimo bella dai no calma 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 vado a prendere l'erba il programmi coprite e davanti no ragazzi qua proprio ovest ormai non posso più ragazzi mi non lo è stato con l'antipatate un atterrato ragazzi mi ha lanciato con la cosa però l'ho atterrato Fabio veni da me Fabio uno che viene da me mi cura uno che viene da me mi cura ragazzi Fabio Fabio a 300 in quel fortino a 300 vacci l'ho atterrato fattelo 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 benedè ce la fai benedè vai Fabio costruisci Fabio cazzo di bud corri corri beni corri beni corri beni corri beni si sta arrestando il compagno qua beni la terra la atterrato atterrato eliminati succhiatemelo vai vai madonna che loot che c'è benedè benedè noi due contro altri tre benedè da dietro da dietro benedè madonna che vita di merda da bene uno gli ho fatto 70 uno quasi atterrato sono tutte due one cazzo lo si io che merda lo sto vaffanculo vaffanculo dai bellissima partita quante avevamo 16 kill io 7 io 7 dai uno l'aveva atterrato erano 18 kill avevamo 16 non lo so benedè non lo so ma quel team ce lo siamo fatti quindi non era un problema quello capito cazzo cazzo ma quelli sì ma io uno l'ho atterrato erano tutti due one gli altri almeno due erano one io ho sette bene dai 8 20 avevo ucciso un altro vabbè dai gg in chat aspetta ragazzi se non guardate un attimo come si chiama non vi preoccupate se non vedete un attimo il gioco no che bellissima partita questa questo cogiuc perché ho messo te completamente no no bella aggressivo stanno uscendo bellissime partite riccardo mi ha inviato la richiesta per giocare e poi lo invito dai poi l'invito grazie mille ragazzi ci sta guardando adesso la live bella sono super mario solo che grande super cosa no ancora non l'ho mai sul streamlapse raga sono morto raga sono morto eh si non ce l'ho guarda guarda è dentro casa vabbè giù questo qua sta camperando mamma satana il contest se arriviamo 100 iscritti mi sa che è offline no aspetta ma sta giocando in squad mi sa entra entra se no continuiamo noi non ce l'hanno non ce l'ho mamma mia che partita bella è stata bellissima che dici bella partita ma che poi ci danno il copyright se ti fermo ragazzi mi fate una cortesia perché non prendi bombarolo lucente allora non lo so se prende il bombarolo lucente prenderlo meno anche perché però non c'è di box e non mille cento e poi dobbiamo vedere meglio comunque i tuoi amici come non ti sento i miei amici su stranissimi aspettano atti parlate stranissimi aspettano atti da vero non si senti non vi sentite dove siete voi ora dopo questa partita sistemo un po' tutte le cose caccia e palla e vaffanbani vabbè ragazzi si sta mandando un ottimo sta cosa ragazzi si dovrebbe sentire dico io ho messo le impostazioni giuste quello c'è lo scarac scusate andate a vedere la live vedete se si sente per favore fatemi questo piacere voi non vi sentite no io mi senti qua qua si sente ma ciao solo io stranissimo aspetta un attimo qua mi stanno suggerendo la regia le devono impostare loro le impostazioni maronna questa fa un casino assurdo togliti da qua fammi una cortesia vai su par scusa super mi dici per favore come si fa almeno io pensavo che si sentissero loro invece no grazie mille comunque chi sta guardando adesso la live vi ricordo di lasciare un like alla live andare a vedere il mio ultimo video del contest per andare per cercare di vincere i 10 euro vediamo vediamo bene provo ad andare su party e vedete un po' come funziona ma tipo impostazioni su party condivisione ad dovrebbe essere una cosa del genere aspetta un attimo ragazzi se non vedete non vi preoccupate perchè sto facendo delle modifiche io si fai questo fai questo attivalo attivalo è attivato ora dovrebbe parla è attivato ok ok perfetto ci sento grazie mamma è bruttissima dire grazie mamma perché si vede il commento di mamma sata ora basalta la live bro che casino mamma mia ok adesso va grande bro grazie mille saluta la live no vuoi vedere si sente bene no mi fa scomparso no vuoi vedere si sente bene no mi fa scomparso no mi fa scomparso allora dove ci buttiamo beh landa va landa landa vabbè secondo me la festa no ma perché ti sei buttato subito vorrei capire questo no nemmeno io lo so ragazzi tra un po' si attivano le donazioni e ora arrivano le big donation mi arrivano 200.000 euro da pezzi da 100 ciccio gamer risposta poi dividiamo certo casa l'hanno presa bro vabbè tu sei un bimbo speciale quindi sono alle a fine le quelle lunghe va bene va bene cosa per me o per te ce la fai a portarla ma spero che la posta classe mi esce qua lo scar magari arrivo perfetto dai scusa come è che non ce la fai a portarla in verità poteva la porta fino a riuscire a vedere questi fa non è decisamente dove sono entrato a sinistra ma no il corso di 24 eccole sono sud ovest nelle casette piccola su internet ok ho capito ho capito le m4 ce l'ho ne ho fatto l'ho preso l'ho preso l'ho preso l'ho preso vieni qua eccoli tanto beh tanto eh cazzo si è spostato la vita non la vita non la vita ma mi fa costruire qua vabbè perché mi conferma ci sono un'altra cosa è sentita vita se no eh c'è un metitore sentita vita dai un altro è esterrato praticamente dai dai commenti ora non le posso dire lo confermo lo confermo sentita vita mi sono andato a sperare oh baby non volevo fare questo ok allora leggiamo i commenti vabbè io vado da mia zia però con la macchina scusa ma vado non ti preoccupare angelo fa ciao timo capito beh questo stai guardando ma c'è un'altra persona è là non lo so lo scrivo angelo ti aspettiamo se vuole venire angelo può venire non c'è un problema ah beh poi devo fare moderatore se vuoi vuoi essere fatto moderatore certo voto 10 sommendo col sonno domani lavora domani lavora quindi angelo domani gioca un volo domani non ci sono l'albero dico però di pomeriggio sicuramente o di mattina vediamo non polso due kennen l'uomo 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 metto cavalli ma perché ti cambi cazzo sto dicendo beh non ti capisco me la melinda gustosa gustosa prende la vita un po più gioiosa ho cambiato nome su fortnite e come ti chiami bro no dobbiamo fare che proprio quella cosa vi aggiungere il prefisso eh angelo a parte questo dimmi come l'hai cambiato perché ti ricordo che non ci abbiamo trovato non ci siamo riusciti perché c'è la guida su youtube ma questo sì però devi creare un altro account psn rl bello rl per cosa sta ah ok sì sì ho capito vabbè non l'avevo detto l'altra volta vabbè ho il prefisso quando ti vabbè ci sta hai visto sblocato pure io mega quindi ora possiamo fare la scuola degli omega non è benedetto che ovviamente un pirlo non conoscevo io non la merda non è anche nero aspetta che qua c'è il bb riccardo mattino solo stai live quindi ti ho messo pure in viva voce vabbè intanto tanto io so qua sto facendo le due con il mio cugino vabbè ah bro se vuoi entrare facciamo le squad c'è il mio cugino che è filo cioè facciamo delle belle squad non so se hai visto la live stiamo facendo delle bellissime partite cosa aspetta sono senza una coppietta altre bro aspetta un ottimo aiuto grazie ora faccio aspetta bro aspetta un ottimo che io sono in una posizione ma erano due team diversi no c'è un altro team diversi ah scusami ricorda se non ti parlo ti ricordo che hai venti di vita non ti parla si 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 ti preoccupare ma venti di vita sai quante cose puoi fare no no nico non buttarti ah ecco non voglio fare male ma ricazzo ricordo che ho pure la telefonata io ti faccio rompere tutto testa di cazzo con il leggerissimo eccolo eh ma i comandi professionisti del combattimento e della costruzione scusi eh quante persone sono entrate aspetta un attimo beh sto entrando in modalità di come si chiama per parlare con loro dai miei iscritti bella checco possiamo giocare non lo so aspetta ora vediamo perchè sto facendo un po' di di duo va bene va bene va bene in caso stasera tardi nel tardi va bene giochiamo va bene va bene va bene stasera ma matti game è un tuo amico si si oh mi raccomando farlo iscrivere dai fagli fare il contest si va bene dai bella bella checco bella matti a dopo a dopo oh iscriviti al canale bella bro dai eh spoint04 sto in live ora quindi ti stanno a vedere spoint spo s p o i n t 0 4 ok iscriviti bro se vuoi vincere 10 euro c'è il contesto vai sulla playlist contest e eh vabbè vabbè parti a vedere il video va bene ok ho capito ho capito quello va bene dai bro bella bella ci sei beh cosa è successo era un suo amico qua eh intanto metti a s metti mi dici a coppia ma perchè sono andati no vabbè l'ho fatta andare io giochiamo un po' a coppia in caso le squadre la faccio un po' più stasera un po' più tardi quando giovo iscritti eh angelo voglio dici euro eh eh ma io non non vabbè non ti preoccupare anche dai vabbè allora uno la vinciamo ora dai o partecipare al contest e se vincete vincete dobbiamo essere persone corrette beh tu comunque devi iniziare a costruire con i comandi non più standard ma quelli là ti aiutano un sacco allora i comandi standard cioè ci gioca deluxe con i comandi standard e sono dei comandi che se li sai usare bene sono abbastanza veloci ma se non se non sei come deluxe ti possono portare anche un po' essere lentuccio capito vai a lavorare non è purtroppo ad abituarmi a nuovi comandi ti sa conto che io giocavo con professionista del combattimento ci ho messo quattro giorni a imparare a costruire con questi comandi ma tu vedi quando che mi cerco vero? eh sì bello aggressive dai se riusciamo a sopravvivere eh poi mi dice perché ah eh beh mi sa che sono morto io pure perché ho solo delle minuzioni no io provo a manovarmi c'è uno che mi sta raccogliando eh calla bella eccitato non vai a cercare indescrivibile ah no non mi piccola mi è stronzo ah aiuto mi sto lasciando vivere ben i corrivi da me ah non è vero bastardo madonna di bastardo attento sociale eh no guarda uccido si 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 bravo bravo ah era con bingo era con bingo si si è un pollo questo qua ci ho preso all'uccidro andiamo alle fatterie ascolta eh si di cattiveria proprio aspeghi chiamo Riccardo che eh ero mezzo a un po' e l'ho lasciato a mio schieno ah 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 è livello 70 eh si ho sbloccato Omega oggi allora quando lo chiamo io Riccardo non risponde mai quando lo chiama lui io rispondo sempre com'è questo fatto allora lo denuncio niente non rispondo io dico questo ragazzo perché 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 piccolo ragazzo non rispondi al telefono no 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 boschetto bisunto è tipo casa mia ma non mi piace non mi piace non nominare il nome del boschetto in vano non la sai questo comandamento si 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 guarda quando viene eh vabbè ma qua c'è pinnacoli vanno molte persone a pinnacoli ma un'altra parte non mi piace ma che ho fatto avanti ma sì passate trova di tutto e di più io c'ho un sacco di cose già attento bene dai non mi preparo subito e poi 1 2 e solo verso è caldo una cosa io ho detto ma l'ora ora prendo sta cosa cerco di rivendicarti devi capire che quando scendi con me dovrà andare sempre al burger ma dice non mi possono nemmeno difendere non avendo l'arma dove sei sceso su nella casa è meno pushato allora la cosa è questa che nelle case ci può anche essere non ci può essere anche non senza lutte possono essere anche le case qua nell'hamburger luce c'è sempre anche se non c'è una cosa in quella cosa la fronte anche qua aspetta notti ma cavolo perciò claudico io evaggiosi ora vediamo quando mi faccio ballare io queste sì 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 ma c'è un altro team si infatti si vado c'è un altro team papà l'americano un po 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 quanto è vecchia sta canzone poi ci mettiamo le skin da nabbi qui c'è il live ciccio tu? ovviamente ovviamente ciccio ha finito dai che ora i quelli delle live vengono da me allora un metodo molto semplice benedetto devi spammare poi tu lo sai vero spamm sono un modellatore non ti faccio eeeh questo qua c'ha 112 come si chiama spettatori io pur c'è 112 spettatori in rocci ma le fattori non mi piacciono più a me va bene sì vabbè però io vorrei essere bello aggressivo ma andate che ci vanno non c'è una leggenda ma tomato è un molto buon a me piace allora gli commenti ragazzi vado un attimo un momento di loading guardo sul ponte prendo questo pompa è proprio originale ha fatto il mi loot io c'ho un pompa solo è finito mi sa che qua c'è un'altra pompa prendetelo vediamo se possiamo scendere al tunnel prima ah così provo vediamo se c'è qualcosa qua e c'è il double pump finito poi vieni beh seguimi questo lo stava rianimando persone in pubblico c'è la trappola qua si attento non entrare qua ecco il pilancio patate no mi dai piccolo non ne ho eh sì allora intanto me buggy game bro grande bella alla casa mi sa che l'hanno notato bro ti ricorda di iscriverti già penso ti sei iscritto comunque al canale lasciare a like alla live e andare a a vertigino del contest per cercare di vincere 10 euro dai bro vanno le colpi di silenziata eh io ho 14 colpi di AR ho finito la casa già l'avevo notato ah non ho guardato vabbè là ci sono colpi piccoli se vuoi prendeteli la posso lasciare c'è una cosa c'è aprile aprile buono aprile le casse di munizioni e vedi se trovi che è trovato in una casa lo scar e nell'altra il pombo con l'oriola buono lo usi o 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 due singoli faccio sì sì sopra sì se le ma se le dicere aspettavanti ma le dice euro se le vincessi io dove me le metter eh vabbè non ho capito allora vado a prendere bravido allora tu prima di tutto hai playstation 4 xbox o pc le guai qualche anno di che cosa fammelo guai si pompa se lo usi o lo usi o ne ho quattordici in canna Io sono PC, e Bruno non è un problema, vado al negozio, penso che si possono prendere la card da 10 euro per mettere su PC giusto? Sì, almeno, io dovrebbe essere così, vado al negozio, prendo la card, tramite Instagram o Gmail, ti mando il codice che tu puoi mettere tranquillamente nella Playstation, dove nel Playstation Store vai su Ricatta Codici, sei a posto, molto semplice. Io PC, dico, poi ovviamente, chi vince mi fa sapere in che piatto forma è, mi fa sapere che cosa vuole, se vuole 10 euro, cioè 10 euro sì, ma se li vuole tipo per la ricarica telefonica, non so se farlo solo su Fortnite, o Google, non lo so. Penso però su Fortnite, quindi, chi vince riceve 10 euro da spendere, un buono di 10 euro da spendere, quindi. Comunque credo sia l'ulta, si è un po' buggato però, però io con 14 colpi di AR che dobbiamo fare. Scusami, dimmi una cosa, non so, io su PC non sono esperto. Si possono, si può prendere questa card e darla, penso di sì, è vero. No, non la so. Non la so bene. È l'ulta, comunque. Sì, sì. Va bene, da me, da me. Da me, da me. Eh, quanto male. Allora, vediamo un attimo. Bene, dai. Aiuto, va bene. Ha fatto vedere. Ha fatto un po' l'assurdo. Dai, però non mi costruisce. Allora, vedo. Allora, vedo. Ti ho finito i tuoi materiali. E' uno, è uno, è uno, gli ho fatto un 73. Attento, beh. Dai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. La safe. Dai, Benny, vieni da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me. Eh, vabbè, 76. Qua, giù, 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 tutto giù, tutto giù, tutto giù, tutto giù, tutto giù. Ce la fai a curarmi tranquillamente. Fermo, fermo. Bella. C'è la mente per curarsi, eh. Eh, io c'ho cinque bande. Questi cosa avevano? No, no. Fermo, fermo. Eh, si muove da solo qualche volta soggiore. Ma basta dire un attimo. Eh? Ma basta dire un attimo. No, no, vabbè, ci stai, ci rimani secco, beh. Sì, però vabbè. Io probabilmente muoio, ma meglio, è così, almeno, non mi spero, mi sono, io sono proprio al limite. Ce la fai tranquillamente. Eh no, non ci arrivo io. Sì, sì, ci arrivi, ci arrivi. Quante vita hai? Quanti più. Cioè, dovresti fare? Io mi sono fatto... No, dai, però, no, non ce n'è uno col cecchino. Mi sono muore morto. Bella, so one. Devi murrare subito, che c'è uno col cecchino. Veloce, venni, venni, mi fa, mi fa, venni. Ma sua mamma, quanto c***o può essere? Prenditi da me le bende, prenditi. Bella, so one. Prenditi da me le bende, se vuoi. Vai, fatta, lo fatta. Un noob. Come va? Bene, so one, grazie. Bella sfiga. Ah, beh, sì. Benni, ce l'hai come amico, Riccardo? No. Te lo suggeriscono le parti, tu accetta. Ragazzi, se non vedete, non vi preoccupate. Perché? No, va bene, niente, niente. Ti l'ho invitato, già. So one, ho visto che sei online. Se vuoi giocare, facciamo una squad. Scrivimelo qua. Forse ti arriva dopo il microfono, mi sa. Facciamo, mamma mia, le big squad. Allora, so one, dimmelo. Io non so tra quando me l'hai vato. Ma, mamma mia, non ti preoccupare. Ma l'ha invitato, Riccardo? No, non mi arriva da niente. Ho messo admin. E che cosa? No, dai parti. Sì, ma se tu non me lo suggerisci, l'invito io. Io l'ho invitato. No, non mi arriva. Aspetto. Invita, invita giocatori. No, non mi arriva. L'ho invitato. Voleva entrare. Vabbè, se vuoi esci, invita e poi andrò io. Ah, vabbè, dico, per invitarlo ho invitato a party. Forse non è ancora lo... Bu. Ma non parla nemmeno. Certo. Oh, eccolo. Bella, Ricky. Però, abbassa che sia... Però, potresti chiudere la telefonata. Ricca, abbassa intanto... Abbassa il volume, intanto che siamo in live. E, porca trota, rispondimi ogni tanto. Però, ma io non ti rispondo perché io ero per i cazzi miei... E, completamento, voglio. E ormai... Ok. Forse, viene someone. Minchia, se viene someone è buonissimo. Abbassa il microfono, bro. Someone, carriaci! Abbassa il microfono. No, abbassa il volume del microfono. Yes. Che paolo. Minchia, comunque non c'è un... Cioè, quando gioco con gli altri... Eh, minchia, ma lei è troppo buono. Benni, Riccardo, Riccardo, Benedetto. Buongiorno. Buongiorno. È arrivato lui. A mezz'allotte meno venti. Buongiorno. Sì. Ora come va il microfono? Abbassalo un altro pochettino, poco poco. Ora? Perfetto. Mi metti una fotogramma. Metti pronto, Riccardo. Cate mia. Ho regolato il tuo cast e lo metto pronto. Eh, no. Dovevi fare la cosa insieme. Che cosa... Oh, raga, spammate. Eh, raga, spammate. No, ma io ormai c'ho il mio someone, il mio miglior amico. Cioè, non ho più bisogno di spammare. Ma forse no. Forse non viene. Non lo so perché... Mi avevo scritto in chat, però... Ora non c'è più nel party. Quindi non lo so. No, la viene. No, la viene. Ci la viene. Riccardo, intanto spammo, a parte lo scherzo, dai. Minchiavo tutti gli esami oggi. Che figura di merda. Com'è andata? Fra, io ti volevo chiamato anche... Ti volevo chiamare anche per far sapere come erano andati. Ma, fra, sembrava che andasse tutto bene. Poi? Perché poi non sono arrivato alle lingue. Ah. Non sono arrivato alle lingue modalità. Panico. E... Ma poi fra, soprattutto da quella di Francese, quella di Francese mi fa... Senti, guarda, non lo voglio neanche sentire, vai. No. Mi chiamiamo tutto il coso e me ne sono andato. Cioè... No. No, ma che cazzo dici? No, è me. Magari... Lei non lo potevano sapere, sono preparato meno. Mi chiamano sapere di tutti i 50 minuti. Quanto? 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 No, dico, quanto hai preso iscritti? Hai iscritto e preso sei in inglese italiano e in inglese francese, otto in matematica e otto primi italiano. Dai, ci sta. Vabbè, non me ne minchiave. E' che io con le lingue faccio pagare al cazzo. Benedetto, sempre ben pienuta a noi stai, mi raccomando, sempre così. Ma, non c'è vero, ma c'è pure lui. C'è cazzo di lui. Ah, ma la mischina, ma perché lo escludi? I miei cugini. Ma io non ho detto lui, ma io non ci faccio cazzo. Beh, dai, però cazzo parla. Ah. Ma noi prima... Era uno con la squad, io, lui e Fabio. Tu non lo conosci, però abbiamo fatto una big win. Ma tu non puoi capire, io ieri sera ho capito i miei amici che ho risposto di storia. E molto subito, ci siamo andati a Pinnacoli. Ho uscito da Pinnacoli e avevo 16. E ho detto, ma che cazzo sto combinando? Tu? Sì, sto facendo il delirio. E penso che mi ripeto alla fine della partita è che non c'è un cazzo di nessuno. E' uno stronzo col cecchino, ma non c'è un cazzo mentre correvo. E quindi? Ho perso. Con 16 kill. Sì, ci hai messo troppo... Oh, non riesco a farlo, è più di 16. Cioè, è un po' di blocco. Cioè, poi c'è, oh, a finocchio. Tu, quindi, 10 kill. La pesca a scendere. La pesca a scendere, la pesca a scendere, la pesca a scendere. Mi sa di no. No, non c'è una testa. Ho sentito qualche a combustione. Ho sentito qualche a combustione. Ho sentito qualche a combustione. Ma hai visto bro? Ho sbloccato una testa. È troppo bella. E' la tosse di mio fratello. Quando si iscrive qualcuno si rende con la mia voce così. Però sto mettendo le donazioni. Ho sentito che la mia voce così. Ma io ho sentito che la mia voce così. Ma io ho sentito che la mia voce è una cosa benedetta. Oh, benedetto. Eh, hai capito, eh? Vi dovete prenotare, raga. ovviamente come vabbè sembra bella scienza che cosa sarò già si sa ma chi è il profumo che si scorda sotto uscita la cinquanta ok io sì benissimo da me lo scido 50 che me lo sporo ma non lo so c'è tanto ci sono i fungetti è una bella la tenita avanziamo in voi vai 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 ragazzo questa partita spammate tipo come lo schifo quando siamo live? ah ma siamo tre in live grazie mille non lo so io penso che la tramba vale comunque grazie mille che siamo ancora tre in live ma non ho capito fino a svingia sono salatario no 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 penso che è grazie mille quattro persone ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciare like alla live e andare a vedere il mio ultimo video per cercare di vincere 10 euro c'è nella playlist contest lo troverete dai ragazzi vinciamo questa partita ecco a me lo so si? non mi so di no comunque a condotti ci sono solo persone venga adesso ragazzi i commenti leggo dopo è una scollinata è una scollinata raga un attimo le siete un po' più lontani non li vedo bene è appunto io nemmeno l'hanno scollinato se mi raggiungete ah probabilmente sono andati al bus bro è ovvio non fa solo se vanno andati i commenti leggo dopo ragazzi un attimo solo che ora abbiamo incontrato un team i bè i bè e chi è il tuo fuoco che la sceglie al bè e 5 euro? è stato ben i beni est-vest stanno scendendo ora ci sono andati al bus è uno solo ben i è sceso è sceso è sceso qua lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo è tipo dove c'è il fiume stanno andando verso il bordo ok è giusto è uno solo raga è uno solo pusciamo non è uno solo non è uno solo non è uno solo ma qua non sono tre raga ma hai fatto la minchia dove andare eh sì vabbè da me ma non è più la alloche ma non è più la alloche raga io sono giù raga se mi raga se mi seguite non questi come quelli a destra dobbiamo pushare che uno solo eh no fida di me fida di me aspetta 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 io mi sono messo uno schifo di posizione raga c'è quello a destra raga dobbiamo fare con la destra che è appunto perché solo riusciamo dai seguitemi seguitemi raga sto qua a destra non sto facendo sto stupendo sto stupendo sto sto a in lato la finita male leone tossioni come ho un po' di più direi ce ne adesso sono ora ho fatto malissimo quello è morto raga cazzo però non lo potete lasciare libero quello non è morto che cavolo allora c'è stato un bel po di casinilla nella fatala se rimane bene venga giocare pure io questo samuel ragazzi se qualcuno viene a restare sarebbe anche fantastico parola split bennie è il più forte ok veniamo solo per bennie bene bene domenica a me ha finito a me ha finito non ti preoccupare allora intanto ringrazio antonio vaccarella che lo conosci tu bennie ha commentato amen non si sa perché però ha commentato amen vabbè comunque banana split e samuel già so che è iscritto banana split ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e andare a vedere l'ultimo video del contest per cercare di vincere 10 euro e no ho finito ho finito ho finito ho finito ho finito samuel ben di una proprio Bella Killatelo Aspettate Bella Arrivano altre persone Mi sa Non è vero Bende C'è Safe bro Safe Alte persone ci sono comunque Sopra di te Sopra di te Sono sommati Antonio Vaccarella Benny ma quanto sei british Benny Vabbè Antonio Ascoltamene Iscriviti al canale Mi raccomando Vai sul contest Dei c'euro E vatti a vedere il video Per seguire tutti i passaggi Per cercare di vincere i 10 euro Dai dai Antonio Confidente Anche te Banana split Samuel già So che tu sei iscritto Quindi grande Bomber Ma vedi che non hai iscritto Sì sì Samuel hai iscritto Eh te lo dico io E com'è E come lo sai Allora Solo se l'ho letto E commento Ma chi è sto banana split Ragazzi Ah sì Ho capito E chi è chi è Chi è U No Forse sì Sai quello quando Sì quando sei venuto in campagna Sei venuto in campagna Quella che ha la campagna di vicino a noi Bella Quella che ha La campagna di vicino a noi La conosce Ah Quell'amico tuo Ah ho capito Quando ho giocato Quanto ho pagato il bambino per giocare Bello Riccato Attento Sembra Samuera Antonio Benedea Cantagli la preghiera Vai Sì sì dopo Invita Samuera Mi aspetta che mi sto guardando Attento Riccato A scala Riccato To mamma Mignolino Ma che significa Ah mignolino Allungelo Perché mignolino Non lo ricordi? No Eh Rito per Riccardo No Non lo ricordo Perché Non lo ricordi No Bene Oh bene Io ne ho fatto un pochino No No vabbè Simò Ti rido Facce una faccia Bellissima E vi Oh ma intanto Samuele Ha messo like Quindi bella Samuele Lui si è iscritto adesso Te lo dico Eh vabbè non fa niente L'importante è iscriversi Eccolo Che ha detto Che ha detto No 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 Non sto bannando Sto eliminando i messaggi E basta Anche io mi sono iscritto Ma Antonio non lo so se ti sei iscritto Vediamo quanti iscritti siamo Ah si ti sei iscritto Bravo Bravo Antonio Grande Buon vero Samuele Ci senti? Oh bro Allora Allora Siamo Siccome siamo in live Giusto Quindi dobbiamo essere Persone No No Antonio No raga vabbè Oh banana Calmati Guardi che ti mette in drive out Ora No no finisce No no Assimo Non si stava No 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 Non li bannando Non li bannando No No Non li bannando Con benedetto Ti sei ridotto No Non lo banno Non mi preoccupate Siamo là Dobbiamo vincere Dai Vabbè E' come no E' come no No ma ci pensa lui Ci pensa lui Come io Samuele Ti ricordo che siamo in live Quindi Bestemmia no Va bene Ah Samuele Allora Samuele parla Cazzo Ah 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 Cosa Cosa Lo sconicare André Angelo l'ultimo raga questa è la live più epica di sempre chi si è scritto ora? mi è deluso no raga eh ho questo grazie mi è morto prima ancora inizia non si sente da me raga a parte lo scherzo no 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 Samuele Samuele dopo questa partita devi fare una cosa no vabbè aspetta ciao bro ciao bro no bro ma vaffanculo pezzo di merda perché stiamo giocando no Samuele Samuele allora non disegna Samuele guarda e infatti Benny come deve fare allora Samuele vai su testa ps vai su fatti no vado ci torna bene allora Samuele vai su testa ps ditta parla un attimo no Samuele ok di ci torna fu io ero proprio da un attimo e vai su eh 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 vai da un attimo tarenta dai vai su mettere su fatti eh vai pac media la condivisione cosa impostazioni parte e poi fai condivisione contendo la condivisione se contendi per il posto correndo ti sei su parte impossibile sì sì no 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 premuto vai su vai alla home vai su parte dai impostazioni parti basta ma che si sto maledio diciamo è vai perché diciamo è vai per creare il party oh e cosa ti dici all'inizio la prima cosa è che c'è poco come dura che ti dico è quella condivisione Antonio se sei ancora in live mandami un messaggio consenti sempre consenti sempre ascolta ma consenti sempre arriva Sam ok la è bella brome ti prondo ho insomma ma ti ho visto che l'ha scritto Antonio dove ho scritto forza Catania non ci credo sì poco fa l'ho scritto forza Catania non è vero no no spera ferma non lo banna ferma perché non è forza Catania ahia ah bravo Antonio andò diserci lo togale forza Catania chi dice forza Catania è un buffo bastardi Catanesi allora cosa stasera ti dicevo allora banana split la cosa ti dicevo è che tu vai a vedere sulla playlist vai sulla zitto no aspetta no tu no non è vero allora un bisciagiate allora la cosa dei 10 euro ragazzi è molto semplice basta andare su playlist andare su su cont un attimo solo che sto spiegando non c'è bisogno che dici raga basta che dici banana e andoro come gli dici ciò no c'è un altro la casa di si io posso te l'anni toglie ragazzi sono morto quello che diceva Antoni era vero che è morto ciò che si diceva beh dai ma è un po' di publicity appizzare non è proprio lo può perdere dai un girata andò in girare fare quando cazzo all'estero perché mi fai fai sta cosa ah beh tanto perdere non ce l'ho io non ho armi comunque a gratis Antonio vedi che ti vanno no no andò andò saluto D'andoni si ma non ho armi ora ce l'ho raga la mia armi dove si trova ah dove si trova la mia armi cosa e buce l'ho aperto oggi ma non ricordo alla besta l'ho amacchipurna agendero o fa da morir aga fa da morir a samuel bella fino almeno bravo bravo non ha serrato ragazzi balla 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 cioè ragazzi non ti preoccupare ma dove ucciderlo ragazzi ragazzi tutti insieme da me un attimo solo no 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 aspetta ricardo beny lo rianimo io fermati fammi sparare i cilindini che lo rianimo io fermi adesso guarda quanto ti voglio bene grazie ce l'ho raga la vede e bende ho una limita tieni la rianimo aspetta il mattone mi aspettavamo la prende la vera fermi orricchi ricardo togli di veloce togli di riccardo 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 bello ne abbiamo ma se volete che amiamo io ci prendo spazio a fermi tu il 118 abbiamo seguito il tema di tranne a vera caota posso fare una cosa io ma dice che non dova donna quando non ne va finiranno no 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 che cazzo che sta facendo quello non metterà jump non a spiegare che da ma dava perché è spiegato la jump così che avete 118 sotto praticato di tempo dai però al jump così però non lo devi spiegare che arrivo dove se brava ragazzi accorciate un attimo accorciatevi e balla accorciatevi ragazzo ragazzo un un ti sentiamo ciao ciò che riserva alle mani come personaggi lega forse giocare o chi state parlando ma qua sono la vita si ma non ho tenuto sono certe carri o bombole qua sono a parte lo scherzo dai ce l'ho qua ma quelli che sono a posto di qua davanti a noi come ti chiami è la bandana in safe io non ho munizioni cioè non ho materiale ma non ho rimanimo in bendo in bendo io davanti a me morivo eh morivo ci vediamo io non ho solo i colpi ma ti sto e da sono morto oh che mora la gana aperto guarda il bastardo oh ma la madre di questo quanto è morto oh è che morto qui è vaffanculo la mamma tuto la sola mamma bella ragazzi stavano adesso la live buonanotte mi aspetta m a a antonio secondo me m è la mamma di benedetto poi non so voi no aspetta aspetta che ci vuoi a faccia ecco le gabbravi dai che schifo ah 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 a me riccardo arrivano i messaggi quelli che noi possiamo trattenere legge pure turica ragazzi mi sono atterrato pure con america cura ma con amica tranquillo ben sebbene la bocca o fighi pulla come cubo tubo mi sta bannando prendi i miei scudini ricco uccidilo c'è dire c'è gente per dire c'è ciao ciao questa è una delle live più divertenti del mondo la roba del mondo allora io vaffanculo voglio fare una cosa vaffanculo pezzo di merda la roba del mondo che rende successa calmeti ma 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 dai mettiamo pronto ma dai entro ma c'è Antonio che dice di apri un raga Antonio Samuele Benedetto apritevi un canale siete troppo carismatici e logoroici ovviamente è il logo roccia ma benedetto che mi fa la po' con vessa come vessa vabbè dai c'è il nostro coglione che gli scrive quando può parissimo parlare magari con un microfono migliore banana ma il loro o il mio ma vedi che hai tutto il mio caso si si sto altando banana split è un amico di bene no non lo conosciamo allora che cazzo mi dici testa di sciola ma che diciamo testa di sciola ma lei spiega ma una bella lavata di piedi tutti insieme ma che cazzo è una banana split mi raccomando vieni tu un'altra volta e ti metto in time out giusto per me cosa ha detto cazzo 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 ah si perchè mi fa cazzo 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 al contest, devi andare a vedere il mio ultimo video della playlist contest, ci sono tutte le informazioni per partecipare al contest, vi ricordo anche di lasciare un like, siamo a 8 like, thank you very much, e iscriviti al canale ovviamente ragazzi, siamo 6 spettatori, grazie mille, raga, raga, però dovete, ma dove cazzo sei scensi, raga, ma v'ho messo a rapida, raga, no, vai per, vai per, non devo occupare, era uno scherzo che c'è Antonio, 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 giusto, minchia, poi mi fai perdere i subscriber, oh raga, togliete sta live, che è rimbomba, non la sta guardando, non sa che se la sta guardando Samuele, dai, monito, ma perché muore, raga, guardate la chat, TRX, HR, Diz, aveva fatto tipo 4 kill, ragazzi, io sto guardando Samuele quanto è forte, bella Samuele, ma sei un bomber, oh ma perché la fucciare con bo, una terra, una terra, una terra, una terra, una terra, pure cosa devi ascenderla,이스�ita, ho fatto Mito Town, io mi stivo pure la partita raga, io pure, ma che vi siete ribellati proprio? la città città il tutto un po' città vedi del ribaldone group ma non parlare o vai per me raccomando iscriviti al canale partecipa al contesto dai No, viper, viper Comunque, sentiamo Antonio Che dice? Come ti chiamano i caglioni? Io Consoli Consoli? Ah, Anto Riccardo Riccardo è più simpatico Dopo Benny E Simone Grazie, merda E Samuel Riccardo All'ultimo metto Va bene Riccardo Riccardo Antonio Ah, ucciti Antonio Riccardo Riccardo è più simpatico Dopo Benny Simone E Samuel Raga, ma l'avete bannato Sì, ma l'hai bannato da banana split Come senta mouth Ah, vale No, stavo dicendo cose No, spedire No, ci stiamo guardando Noi stessi No, ma ci sono altre persone Che siamo No, ci sei in live Eh, sei siamo Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Sì, ma una ia Sì, ma una ia Il tuo compagno di squadra Ah, come va? Nesse Che aiutammo Ah, ma Nesse Dai, come va? Io tre non potevo andare Che Devo andare a fare la miglia Ah, ma mi sa Donne, ma te La capisci Che no? Eh Ah, che La vado più bene E quindi Chi ci darete? Non può essere? Oh, ma mortaci Di sto zanzaro Vabbè, io sto staccando No, no, Benny Ami Che ne facciamo la partita giusta Allora, non lo faccio io Allora, dove dovete uscire Ma se ricordi lo signore Che dici, Fla? Ma che cazzo Mi mangi Sì, ma Esci dalla partita Aspetta, che c'è Riccardo qua Stai facendo le bigostruzioni Mi si ricordi a bene Comunque grazie mille Per i cinque spettatori Ragazzi, vi ricordo Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Bella, Ricca È particolare dal contest Oh, se quasi si fa No, no, fai un 3-6 E poi ti butti No, Riccardo Carazzi, per cercare di vincere 10 euro Andate a vedere il mio ultimo video Del contest Ricca Fai un 3-6 Mentre ti lanci E fai E tiri un colpo Vai, 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 Ricca Non sai come si fa Ma è ricca, veloce Bella Ragazzi, per sbaglio Dai, dai Allora, aspetta Deve cantare E sono un singolo, Samuola Aspetta, no, Samuola Dai, mica, io ti do tutto Sol Vada, vai Prima di partire la partita, dai Mamma mia, che giochi di parole Samuola Vai, Samuola Vai, Samuola Samuola Dai, tanto non ti dipende Samuola Nooo Abbandonato lui, raga Ah va Minchia, sei ritornato, Samuola A profugo Samuola Dai, Samuola Dai, Samuola E' un profugo Non sa manca la lingua italiana Sì, questo Sì, questo Sì, questo Dai, Samuola È il più omosessuale di tutti Oh, ragà, ma dovete cazzo Dovete Minchia Oh, ora, ora ascoltiamo Samuola e basta No, Samuola lo banno, raga Sì, questo Meno sei il cazzo Mi sa di cazzo, dai, vieni, dai Minchia Raga, quando Quando Si deve rianimare le persone Rianimo io Meno 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 Vai, vai, vai Tutti i corsi ragazzi, dai Ma che что Don me Samuola Vai, vai Facciamo come Quando Mettiamo per il totalmente Quello Andiamo a morire D'altra parte No, dai beh, dai Sei vergognoso Oh, veramente Tocca usando la Fredda Cos'è con Antom con la mamma di antonio madonna l'hai sentito aia aia l'antò questa brutta eh cicchia ahahahahah ahahah 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 ahahahahah ahahahahah ahahahah ahahahahah ma antonio io confido nel tuo commento ricca eh antonio ma dov'è ma dov'è quanti siamo? 4 ancora grazie raga qua siamo sali ricca ma cavolo raga lasciatemi il pompa lasciatemi il pompa raga per favore lasciatemi il pompa i colpi i colpi raga non ho due i colpi per favore raga qui davanti colpi del pompa raga e davanti siamo le dammi raga non li vendi non li vendi ragazzi fermi eh Anna fermi 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 uccidiamo il compagno uccidiamo il compagno raga uccidiamo il compagno l'altra è Anna raga l'altra è Anna non hai municione venga bie ragazzi ma con cui cazzo stiamo giocando ma con cui cazzo stiamo giocando ma riccardo te vai gravi ragazzi uno che mi resta l'altra è Annuccia eh Annetta l'altra è Anna raga ferma non lo curare riccardo voglio so riccardo 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 lo voglio curare io per favore per favore dai andiamoci ma 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 lo sapete che si ti mette caro dai ok fermi 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 uccidiamo ho tre kill venga venite a me per favore ballate tutti intorno a Samuele ricca al medio eh eh scusami al medio ah minchia al medio eh te ne posso dare un altro però te lo devo staccare dalle macchie eh Simone eh 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 minchia siamo a che raffreddore oh non basta carabella è in culo tambi non basta eh 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 ecci eh 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 ecci dai devi la fara messina no 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 ma che l'ho ucciso ha quitato ma vai ma vai eh ma vai no eh mi stai stavola stavola ma stavo scherzandolo no non so se sto spessando mia pure ahahah ahahah stai buone che ci va a prendere ahah samuel samuel te l'hanno facendo in ciotto guarda che vedrà la live ti muovi qua da sotto te perché sei tu quello più forte che grazie a boh mi ha stesso solo perché io non mi serve raga però abbassa il volume vada sky youtuber come vado a rispettare youtuber che mi fai con gli armi oh raga abbassate il volume però per favore è un casino live è arrivato il boss eh sì l'ho sentito guarda la live grande bomba ragazzi samuel è il che con bomba della situazione un pregio no è un difetto devi silenziare la live bro a parte lo scherzo ahahah samuel guarda in chat si vede che la sua mamma fa che se ne lavore devi stare in chat tanto eh scusami oh banana play dico al fratello di benny ah benedetti ha insultato samuel il fratello di benny mi ha detto che fa in giro ahahah che c'è a brucia che ho il fratello che dici? che dici? che c'è in live ah sì altre volte le sue vittorie io le dici ah certo ma poi chi c'è? ora per l'ora sono sicuro che andrà nella stand eeeh ma banana spessuto fatti eh no no vabbè a fondo vediamo una live vediamo una live di simone ragazzi che vieni qua il decennio io ti carai giusto l'ho fatto io un attimo ti volevo buttare fuori dalla parte ma un tipo ma lo sai come godo beh dai mi metti la super party per favore no non lascio la storia dopo questo spendo io quindi ci spiegiamo ah ah finalmente mi dispiace se vuoi no non lo voglio allora non mi seguire allora che sarà ma di in gru stai dicendo beh ecco io con 28 29 colpi medi che siamo all'ammattata ragazzi qualcuno ha colpi medi in più oh caro ma stusamo 29 12.290 ah ah stai forte ma si è in gru la band si si conferma e dai ci veniamo mamma mia mamma mia eravamo io benedetto e Samue e no e Fabio abbiamo fatto una vittoria allucinante ma eravamo 16 kill eh si allora ragazzi facciamo un coro per intrattenere un po' chi non batte le mani muore di domani ti fida di me fida di me fida di me fallo tu il coro vai sto in gru vai sulle mani ragazzi sulle mani sulle mani mi ha fatto notare bravo piccato il mio culo ma non ho quattro la guarda io lo sto prendendo oh ma il gesto di Samuele di Capace ha scritto oh bellissima piccola c'è ha fatto l'ho fatta sua il cammela mule ah che ha fatto sua e sa falcon buone ancora non lo vogliamo il coro dai un schieno dai lui ci arriva persone ragazzi su duecento dieci persone Bani lasciami colpi del m4 il favore che ne ho 30 ho finito oh raga togliete sta cazzo di lava apprezzato lo scherzo è un casino assurdo poi devo andare a facere quello che hai trovato? se vuole prendo io il cecchino si vedete che lì spammo spammo bomba andiamo andiamo io qui ci sei io bro sono a che commercio quando giochiamo? ora giochiamo bro non ti preoccupare tanto loro se ne stanno andando ragazzi aspettate se non fai tanto questo è un inscritto a base ragazzi a base ragazzi è caduto? è one con me ha messo le trappole fermi da sopra è sopra è sopra confermo sopra mi ha distrutto è sceso è sceso si conferma a uno di vita l'ho colpito tre volte di pompa ecco c'è uno atterrato uno mi lasciate le cose mortacci vostra ricca però mi stia prendendo tutto ricca ricca ma io non c'ho colpi c'è una trappola c'è una trappola c'è una trappola finchia finchia sei un coglione scusa c'è una trappola che te l'ha detto ah mica ma hai detto quando ci l'ho pieno lenti ricca ce ne andiamo con la giamprica è stato invece dai guardati la live di ragazzi ciao ciao sono un piacere dai guardati la live mi raccomando davanti a noi qua come cazzo ti chiami qua non è bro vieni qua no da me da bella mi hai scelito ho lasciato se vi scendi ma vaffanculo la ricca dai ho ruffato attento attento ce n'è un altro ce n'è un altro a ovest 285 bro andiamo dove cazzo hai lasciato questi scudini li ho presi di nuovo vabbè si cazzo ma vabbè usc'è questo e non possiamo fare questo dov'è dov'è che sta non l'ho capito bene però sparavo d'acqua sai dov'è è questo scudini vieni qua ti l'ho lasciati vincete per noi ah qua è un pro bro stavo vedendo la chat bro mi ha aperto mi sto parlando degli scudini dammi tempo bravo ah va ma hai il kit si si vieni ce l'ho io dammi 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 lasciamela con le granate bro vieni qua da me vieni qua da me eh vabbè dai ho la giampa no 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 ne ho 5 già pensavo di non averla bro io dai che questa qua ce la possiamo portare a casa dai tante chi l'hai va bene hai bisogno di materiali bro fra persone dove abbiamo ucciso i primi mi fotto malissimo ucciso che cazzo stava facendo la safe la safe la safe la safe la safe scusa scusa bro scusa uso la jump bro dove cazzo sta ma non ci possiamo rimanere anche a piedi c'è un medico c'è un medico c'è un medico lascio questo lo lascio un po' un po' io vai Samu questa acqua la vinciamo per te Samu se mi sale secondo noi siamo contro con team da 4 davanti a noi bro la base fai cadere è caduto pusciamo da me due bro vieni qua no sono caduto il capo va a venire da me andiamo a cena che mi devi bene medica se ce la fai uno e one no 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 3 la seco se è il titolo per un po' per un'altra ma troppo c'è un giocatore 4.6 non lo so non lo so nel distruttito utile distrutti tutti Io non ho colpito di cecco e di scar Dai questa qua è stata una delle più belle live secondo me Fino adesso Forse non la migliore live Eh si Bro giochiamo Fra vuoi fare le scoppie o le squad? Perché saremmo una Bro le squad da 3 C'è checo C'è checo match Eh dopo entro Vabbè dai tra un po' entriamo Dai tra un po' entriamo da 3 Da te No ma penso che per un po' fatemi 2 perché Mi fa un po' male la testa Mi posso 5 minuti e poi Sì sì dai Siamo 4 C'è un tuo amico pure che ecco Schimmelo un getto velocemente per favore Stai sicuro Uh ma spero non sto Sì sì comunque fa così Bro ma che fortite stiamo facendo Cioè che stiamo facendo Devasto sta live Sta live spettacolare 8 like bro Ma io pure dai Non posso lamentare Bro casa blu capito Io sto tutto sopra Perché sono abbastanza basso Mi sa la casa blu ci va qualcuno Eh uno è sopra il te Ho trovato lo scarbo Gli stai Giù Ce l'hai tu E il pombo vero? No te ne sei andato Cosa? Ho capito che c'aveva tre colpi Però Cioè Neanche il tempo di sparare Mi aveva sciolto Ma che cazzo Oh mi lasciate bere gli scudi Così non ve ne do a voto Cosa? Vado per 5 minuti Mi guardo un po' la live No dai bro No se mi sto Mi fanno male la torse No non fai rompi balls No ma è uno squad Ci sono altri due amici loro Dai bro Eh bro Devevo abbandonare Vado forse Ci faccio un altro duo Vabbè forse Secondo me è abbandonato Non so se ci vedono entrare Bro Mi fa il piacere di spammare Prendiamo un pochettino Esatto Vedi Già sono usciti Andiamo a un chat di Capito no? Capito Ricca? Andiamo a un chat di auto di gioco Oh bella che cool Sì Mattia sta avendo la partita Io ho abbandonato Adesso mi cedere Se ci fa una fila Vabbè dai Bella Mattia Bella raga Siccome sto su youtube pure io Ma faccio la clip così Bella Pensi che vinci Ma ma è buona Dai dai ci sta Seguo il disco Ti ha C'è Tornati su fortnite Con Checomatch Siamo compagnia di Checomatch Medico Legale 128 Enric Campatore Enric Ok Ragazzi anche chiamato su youtube Spawn04 Grande ok Cercheremo di vincere Bro ma stai live o stai facendo una clip Clip No clip Allora aspetta un attimo Chiudi un attimo questa clip Che la rinizi Che ti facciamo un attimo Un po' le presentazioni Le cose Le facciamo bene Va bene Quindi registro dopo Ora Vabbè Intanto questa staccala come clip Riccardo 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 Ma forse Riccardo non ci sente Ma riccardo è passato nella Bu Bro ma come ti chiami su youtube Matti Games 05 Quanti iscritti Hai? 164 Hai un canale attivo o meno? Cioè quanto Non tanto perché Non tanto attivo Però Ci legge Ci legge Dai Ciao Anna Aspetta Ragazzi Vedete me Vedete me Dai bro No 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 Muoio 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 Senza armi Bro calmi Calmi dai Calmi bro Daga muoio No Ah questo come ha rotto le palle Sto qua sto 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 qua Cimo 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 sto qua Aspetta come ho atterrato Eh mi stanno sparando da lontano Porco No no cimo Buona Buona Ricky Ho una metà nette Da ma Ne ho atterrati due raga Ne ho atterrati due Riccardo Ma una metà per passare in alto di gioco Quello mi ha uccisato ma il mettitore vio Ho un po' qui Ma no Aiuto aiuto No 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 Io non ho eliminato due raga Io non ho eliminato i due Eh vabbè qua al massimo ti faccio vedere Ti faccio vedere almeno 10 10-12 kill Bro ce la fai reanimare Mi sono qua rica Eh no vabbè non ce la fai Ho 0 ho finito i colpi Sono col piccone Hai colpi piccoli Arriva una persona Arriva una persona Ho finito tutto Eh bro ma ho finito i colpi La mia nonna Flavio ma è giusto Ho capito che ridi Però mortecci due Ma raga facciamo un'altra partita Allora intanto metto pure io L'Omega quello cazzuto Allora Allora Bro Tu questo canale Io non l'ho trovato Come ti chiami Matti Matti Come mi chiamo Nell'idoline uguale Ok Flavio E porca puttana Ricci Ricci un bug La tua testa è Ah si Ce l'ho da l'occhiore Allora Hai 165 iscritti Sì Quello Allora Però facciamo una cosa Cioè quante fai visual Di solito Eh Poca Però Quando avevo prima il canale Cioè ce l'ho ancora Beh Prima prima facevo un botto di visualizzazione Però lo elimina il canale Eh Eh Sette mila facevo Ma un botto A video Sì Non botto E poi lo elimina Allora Beh lo facciamo una cosa Tu tipo Inizi da qua La intro E fai Le presentazioni Siamo qui Con Medico del canale Le postiamo Tipo Lo prendi Dici che mi chiamo Spon04 Su Youtube Se vuoi Dico Eh Sì 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 Posso Aspetta Un attimo Devo bene Devo dire bene Il nome del canale Ma tu ti sei iscritto Sì sì Mi sono iscritto Allora S P Spon04 Spon04 Ok Io tipo Mi Mi saluto E posso dire anche Del conto 16 euro Magari Se vuoi partecipare Anche tu Sì 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 Ok Perfetto Dai Inizio Stato Ma Aspetta Stato La clip Dai 3 2 1 Vai Un attimo Benvenuti a tutti ragazzi Benvenuti in questo video Eccoci tornati su fortnite Con Caccomatch Medico legale Però Ricky Cantore Eric Andate a visitare il canale Di Medico legale Che si chiama Spon04 Spon04 Su Su Youtube Youtube Contest Da 10 euro Allora ragazzi Se volete cercare Di vincere 10 euro Vi Vi consiglio Di andare Sotto Sotto nel mio canale Che metterà in descrizione Penso O lo metterà in alto a destra Nella scheda Triccabile Andate nella playlist Dove c'è Contest Andate a vedere il video Per cercare Di Partecipare E vincere Questi 10 euro Quindi Andiamo Con questa Big partita E' bella Quando Fa lo schermato di caricamento Si sbloccano tutte le voci Vabbè Ci vediamo Partita Guardate cosa Guardate cosa Oh Aspetta Oscilla E' con il ritmo Cattilino rosso E c'ho questo pure Oppure a questo Boh Oh no vabbè Comunque ho la dub pure Ah ci sarebbe dai Io vorrei andare a tomato Oppure andiamo due rapide Due tomato Oppure no 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 Vediamo Questa rapida C'è rapida Tomato Ormai Rapida Ok tomato 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 Però dopo Proviamo Tipo Io e Simone Da una parte Mattia e Enrico Dalla Eccolo Non sono io Giuro Io mi prendo il ponte Ok Non mi rubare il ponte Minchia raga Dove minchia vado Io sono Dal ponte Ah io vado Alto Meito Ok raga Ci siamo buttati Perché è molto bello Ragazzi io sono fortissimo C'ho tre pistole grigie Raga io adesso Sono in live Quindi Allora ragazzi Posso Vabbè dai Dico un po' Anche Io faccio Le live Su fortnite Se volete Vedermi Qualche volta No no Dai È un orario Ragazzi Inizio Verso Le 10 Le 11 Inizio Verso Le 10 Le 11 E Continuano Fin quando Non mi stanco Molte volte Sono con Riccardo Ah Con Riccardo Quello che vedete Righi Campoteric Quindi ragazzi Devi fare un salto Passateci E vi ricordo Del conto 16 euro Che vuole un po' Dal nonno Io ce do Grazie Righi Vuole un po' Dal nonno Ragazzi Ragazzi Di qua per 500 di Eh Di 500 di legno Danno il pompo Quello oro Qualcuno lo vuole Ragazzi 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 Niente Sono morti tutti Io non mi sento più Riccardo Se mi senti Fai così No Non mi sento neanche Riccardo Riccardo Ricca Ragazzi Ci siete Ragazzi Ragazzi Ci siete Uuuu Quale Lesbia Bro Io non ti sento Bro Ragazzi Facciamo un party No 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 Bro mi senti tu Tu mi senti Ragazzi Mi sentite voi Ragazzi Mi sentite Ragazzi Ti sento solo io Matti Enrici Non ti sento E come noi Riccardo Sì No entriamo in un party No bro Eh Davanti a noi bro Ora non ci sente Nessuno Porco Vinci No 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 Seguimi Riccardo Da me Da me Arriva Madonna Mi hanno aperto Raga No No Da me Da me Sì Ma Va Ci ricca Va Ci ricca Va Ci ricca No no Da me Bro Da me No Mi ha La presi in testa A fatto Mi sta andando Mi ha detto Sopra Sopra lì A poca la vita Di chi ce la prendi Ma di cura Simo Stanno sopra Il tetto di gatti Sì 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 Lo vedo Vedo Hai bisogno di band bro Sì bro Non ho solo una Dietro ce ne sono altre È un problema Non possiamo parlare Ma Ma te che ne Perché Abbandonato È un abbandono Dove Dove sta andando Ho bisogno di cure Oh no Va bene Vieni qua Arrivo Arrivo Ok Grande bro Scudini No 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 Niente Adesso 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 Sotto 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 di noi Sotto di noi Sotto di noi Sotto di noi Non ho bisogno di curare Sotto di noi E' di chi? E' di chi? E' item Lo so Eh cavolo Aspetta Dico a Checco Che è Bro Invita la parte Checco Va bene A te Eh Invita Checco Nel porti Sotto di noi Sotto di noi Sotto di noi Bro Dove ricco? Fermati 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 Chiudo Ricco Fa il party Ora uno No 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 Non ho cure Bro E' come on bro no mi sono fatto male capendo cazzo 2 kg mi ero fatto bellissima quanta vita io ho lasciato e non l'ho colpito neanche una volta questo qua c'ha avuto una fortuna assurda bro entra in una parte per favore Raga mi senti che è co? Che casino ragazzi Riki 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 Facciamo una cosa Andiamo nell'audio dei party E giochiamo un po' le doppie va bene Ci sta vedendo che ecco E nel party che ecco Vabbè vai nell'audio dei party blu Dai Mi senti Riki? Ok Aspetta un po' di livello del microfono per favore Allora mi ha inviato Matti Game Un invito Ora ti invito pure a te capito bro Vai Raga 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 Ci siete? Ci state raga? E niente Ok ci sono bro Ci siete? Ok Perfetto Perfetto Ragazzi Fatemi un piacere Ok Sì sì ci sono tutti Raga fatemi un piacere Spammate un po' la live Dite tipo Miglior team italiano Ok Vai Nelle altre live Per esempio quelle di Joker Ma ti facciamo la nottata La nottata Sfra Andiamoci Rekings Vai vai Ragazzi Rekings E Joker Grandi bro Ok Ok Raga Ho fatto Ah Entro Già Ma Do Soltanto Matti una cosa Ma il canale tuo Come si chiama? Come Lady line Della te Andiamo al piaggio Wanyu Per me Andiamo a prendere il passaggio segreto No Da raga Spammate come Della Ma perché Non 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 Va Andiamo a spiaggia Raga Io mi prendo il passaggio Saluta cacco Che è che fa un rumore atonico con le cuffie? Io perché sto mangiando Capito giù Ok Ok raga Siamo a terra Aspia In Piaggio snob Pro Ma qualvi Di quel video Pensi di caricarlo? Sì Ci giochiamo Benissimo Spero di trovare Buon armi Per te Buon armi Buon armi Oh raga Una cosa Ma la mia vita è proprio proprio brutta Sto luttando E raga Andate da tutti i vostri amici Dete Ti volete vincere 10 euro Loro diranno Certo E voi dite Andate da Spawn Ero 4 Ero 4 Ero 4 Ma poi con un ghetto di voce Già Cosa li ha Già Comperizzato Già Tutti i fatti Gio È dovuto mutare Ma che Ma Ricchi Dove Un rumore Di stare Tutti Ero Abbasso un po' il livello del microfono A me Sì 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 No 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 Tu ricca No tu ricca No no tu no E' un po' difficile capirlo Vabbè Tu sei fra Capito Ok Ecco qua Regà Guardate Se è venito dove stavo io C'è un double fatto Come mi senti bravo Ma si fa insieme Perfetto Ma che cosa stai Ok Ok raga Passo il volume del microfono Ma l'ho vista Spiagge in safe Ma guardo Ma io ma Vecco ma se facciamo Una cosa molto fattica Se ti vuoi animare A boschetto E gli prendi voda dietro Che dite Ciao a tutti Oii Matti Matti Vedi qua Ma Matti Matti Paggia Sti Belli alberi Raga Ma che Acco parla Sì Lo senti o non lo senti? Non lo senti Se l'hai mutato Grazie mille ragazzi Chi sta guardando la live adesso Siamo tre, grazie mille Allora Ragazzi un attimo solo Allora Bella Hero Sì sì ti ha mutato Mattia Allora Come posso vincere 10 euro Ragazzi un attimo Devo spiegare a molly come vincere 10 euro Allora molly Devi andare al Al video del contest Che credo tu abbia già commentato Se non l'hai fatto commentare E seguire tutti i passaggi Che ci sono all'inizio video E se arriviamo a 100 iscritti Entro il 30 giugno Regolerò a uno di voi 10 euro Molto easy peasy Sì 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 perché con un bordello atomico Mattia Mattia Devi abbassare un altro con il microfono Sì un attimo Ok Abbassare un altro po' Abbassare un altro po' Io ti ho lasciato gli scillini Mattia Vabbè non fa niente Come ho mandato le salari Bene Giro grazie Che no Che no la tengo non uscire Oh no Vabbè Raga è svuup qua Che faccio Raga Prenditela No Eh Non c'è C'è Non 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 c'è raga come potete vedere ho sbloccato anche l'omega o l'omega come preferite la pronuncia che è una figata assurda ricca ma dove cavolo stai andando raga raga facciamo una cosa fighissima raga no no raga ascoltate ma facciamo una cosa fighissima per quelli che stanno nel live ora prendiamo il carrello andiamo là sopra raga ci buttiamo con il carrello ma ne hanno bannate non c'erano da sopra come non ci sono più carrelli da sopra non ci sono più carrelli no ma fino a 2 giorni fa c'erano ah no ma venga ma cazzo mi ha dato incontri a bocchetti ne vede due venga vuoi papà questo da domani ma io volevo fare volevo fare le cose fighe per ho fatto gli spettatori che c'erano adesso in live si sente in bordelli qua ragazzi il grande che può prendere ma ti spara da matti grazie a dio ma c'è un suono inquietantissimo eh lo so ragazzi ho sentito l'ottimo rimbombo perchè su se non la rosa ma cosa boschetto perché abbiamo sbagliato ma perchè ma perchè questa pinnacoli c'è che non è 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 che ragazzi ragazzi pinnacoli persone che cosa guarda c'è un cancer ma sei fortissima ah ragazzi che sto pushando mi seguite bene se non mi seguite niente 4 4 4 4 4 però perchè dovete pushare perchè io perchè io sono un best player quindi posso morire subito fin all'anno andiamo 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 no 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 non c'è no bugia c'è 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 oh ho lasciato nando 4 blu se vuoi prenditelo ok aspetta se volete colpiti qualcosa ditelo io ho un po' di mattone bro antifra materiali guarda ho 200 di mattone preciso guarda me avete lasciato blu blu io l'ho lasciato verde ma che vieni un mutato rega io ce l'ho per me ma io lo stupo blu tra me la band li tolgo dal posto quanto no 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 non so lo scherzato ma comunque non è che non è rigido ah signora io l'ho tolto di mano qua c'ho l'alto su eh io l'ho mutato eh non c'è niente ma me lo smuto eh simon se vuoi qua c'ho l'ho smuto e non c'è per portarlo oh ma è già arrivato oh attenti oi 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 da dove ma che è sparato raga stava stava una allora gioco se ti dico di modificare tu devi modificare creduto che ci saremmo rimane in mano perché un po di legno cioè cinque secondi bene ok grazie bro la sua c'era allora prendo queste munizioni qui mi ricordo pure che si chiama che così chiamato la rincese quindi mamma mia che bomba casa schifo ragazzo con 0 kg che schifo come turini magari non capiscono fricassi mia boschetto e comunque boschetto non era un attimo dicevo da fare che prendo questa ma c'è stata la vostra bellissima ma se fortissima un compagno la proposta ok sono andato il cilano ma giusto per il spizio di aver detto minchia ho fatto qualcosa io ho setto un cecchino mi butto con le troppole su dicendo prima ragazzo è sacerdì che sono andato da voi ma vai non lo so mi andavo o ma che devo costruire anche a me parto dei istinti costruttivi io faccio così oh raga davanti a me davanti a me raga sotto la collina cioè coordinato omega omega si confermo confermo sta nascendo sta nascendo pari a faccere il secondo il dato una volta omega madonna che bordelli mi spiace anche da dietro siamo in mezzo a un panino raga pensate a quelli dietro il favore raga 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 subito 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 ci avete scassato la minchia push 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 ragazzi ce l'abbiamo anche dietro ragazzi precisamente anche dietro non ci sobbiamo ci sono raga venita andiamo busciamo ragazzi usciamo usciamo dai aiuto scendi arrivano mi sono chiuso io ho bisogno di curarmi quello da guando ma sì dove stanno a nu visto una sinistra pure pure porca no no non ti richiudo io credo muoio muoio 12 di vita raga vi prego per su un casino di vita ma andiamo ce ne so io li ho distrutti tutti raga ma io non c'ho un cazzo di vita che avvicina del fuoco c'è un palo mi tolto qua io ma raga mi sono fatto praticamente mi sono fatto una kill subito a cazzo a culo no vabbè davanti a noi pure ma che cosa vuoi si guarda davanti ragazzi coordinate precisi per favore scurina vederà un problema oh my god chi vuole l'assalto blu bugia 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 da me la modana la meraga ricchi insatto la simone la simone la simone l'ho terminato questo questo quasi non c'è nessuno non c'è nessuno però ho bisogno di cura sto qua lo stesso per te il supporto moral ragazzi mi servono ragazzi vieni qua di due ragazzi ho già potremmo potremmo anche andarcene andiamo 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 mi servono ragazzi te l'ho lasciato io te l'ho lasciato io qua dove sono qua dove sono io sono io qua che è giusto questo posto seguitemi grazie aspettiamo dove si chiude la sei davanti a noi ragazzo porca trenti che c'è chi ha tra raggi nessuno bravo dobbiamo uscire per forza questi ragazzi non c'è altra soluzione perché si dai ma si ragione di stupro vai ma sono sotto cadere bravi ragazzi mica tanto a su che mi la parola che ho fatto in tre da solo con lanciaro da nikki legato a me bravi bravi primiati come questo bravissimi eliminato il mio rega mi servono razzi ora ragazzo medica ho sganciato un medico ragazzi per chi lo vuole vabbè non c'è da me che come di kit medikit ti prego ma medikit raggi raggi ho preso anche io lancerò di raga grazie ragazzi qualcun altro ragazzi qualcun altro ragazzi io sto usando ragazzi guardate quel fortino io io bro sono fuori safe ragazzi sono fuori safe mi può pensare materiali erica vabbè mi vedete allora ragazzi in safe ragazzi mi seguite per favore comunque lei c'è un assalto blu si andiamo andiamo agli amici da simone loro sono fuori sito mara mi sa che loro non sono pienamente in safe forse sì non lo so cioè ma ci siamo fatti il devasto l'unico cosa che stessi quanti che l'abbiamo raga e porca si sta a bug non vanno un vantaggio ragazzi ma ma di brutto no 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 dai bella grazie come va va stanno sopra la collina vabbè quanti materiali avete raga pochissime io c'è un pochissimo c'entrata con se non c'è i ragazzi e non c'è i messi i messi i messi si può usare vabbè a provo ma non vantaggio della madonna lui cioè così male c'è un cazzo di vita era no no mica ha preso un altro costruite davanti costruite davanti no no così ecco 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 bello ora ragazzi vediamo dove si aiuta la safe qua non avete capito che abbiamo pure dietro come dietro hai cura che ecco quanto in mano ma non facciamo questo tu costruisci se dovesse lo spaccare che ecco che ecco calma becco a portati un tuo provato dentro le di maio a capo squadra poca vita bravi 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 bravissime ragà la sopra mi fatecopo squadra mi so sparare il bibitone qua scendini ragazzi si è morta che morto dopo scuola prendo questi cazzo i cilini ragazzi chi ha un cecchino in più ragazzo i ragazzi mi servono i ragazzi veloce che muori adesso io adesso io adesso io ragazzi copritemi per favore copritemi ragazzi gli ultimi due ragazzi gli ultimi due ragazzi ragazzi gli ultimi due ragazzi non vi fate atterrare ragazzi l'ultimo ragazzi è l'ultimo giochiamoci ragazzi se è nabbo giochiamoci ragazzi ragazzi lo fate killare a me che c'è solo kill no 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 dai se è nabbo ragazzi perché questa è una bella partita fermi 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 che è co calma oh troviamo troviamo ci dico il cecchino calmi allora è un pacchetto senza tracco calma ecco no ragazzo c'è una cosa rinchiudiamo tutto con il ponte rinchiudiamo con il ponte calma 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 uscire della ragazza uccidetelo 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 tutti insieme attento cacco no no ma cosa no non possiamo arrivare secondi oh no apocavita vai grande 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 si si balla bella balla bella quanti kill io ho 4 allora 18 kill abbiamo fatto il devasto raga grande 18 kill dai che questa la carico raga bella raga questa la carico ok raga lasciate un like iscrivetevi al canale speriamo che il video vi sia piaciuto e niente ci vediamo alla prossima bella ho fatto una giocata ma porca vacca oh raga 70 iscritti 70 iscritti raga buona 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 che questa qua la carico raga e facciamo il big like no ma perché io la carico eh ecco domani carico il video ci abbiamo fatto noi due prima prima che c'è la ricerca mi c'è la ricerca mi c'è la ricerca mi c'è la ricerca non lo potevo pubblicare allora facciamo una cosa che questa quella parte che hai fatto con checco la carichi te e questa la carico io per te va bene sì sì ma vabbè la pubblicherò pure io perché oh raga 13 like ho ricevuto buona 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 oh raga che lo crea il film e noi non so come creare è diversa cosa non so come mettere i perfis vediamo che lo creiamo su WhatsApp no no vabbè che c'è è Marco e Rocco là è Marco e allora è giusto sì guarda allora raccosa allora Marco gioca sempre con Fiderico Cicillo e Aldo vabbè Black Sound un l'anno l'ho so seguito tutti gli altri vabbè per me si possono e anzi compiacere perché siamo una bestia possiamo fare il team sì st'attenta a chi accetta perché qui rompono la sì siamo delle bestie ragazzi ma porca troviamo quanto siamo forti raga e questa cosa è carica se vanno in Bicke c'è 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 portola finale cioè avete notato però che proprio la prima la prima partita che abbiamo fatto proprio tutti insieme vabbè no la prima la seconda però la prima era la cazzo la seconda che abbiamo giocato bene l'abbiamo vinto ci siamo dalle bestie umane ma siamo usciti da tre in mezzo da tre tina raga raga ma che team leader c'avete raga ma che team leader c'avete raga ci dobbiamo chiamare opi con la pagina no ma siamo troppo forti ma per raga comunque all'ultimo ci sono entrati più colpi con lo scar che col cazzo di pompa ricchi praticamente io l'avevo il cazzo gli ho togliato il tuo 96 aveva pochissimo la vita l'ho preso in testa col pompa un nuovo vabbè preoccupante ne ho tolto il 96 intanto quello mi ha terrato vabbè l'importante ragazzi massaggi della bestia andiamo da timone sono morto ce l'hai qui andiamo cacco andiamo cacco ragazzi stiamo venendo omega struisci io non assalto non vabbè la bella cacco dietro bella cacco bella bella da dove finisilo 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 tu madre è buttata tu madre è buttata finisilo 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 bella che hai visto come mi ha fatto imbloccato aia no raga mi ha fatto tutto di gru che non è appena non ci faccio più ma questo qua c'è avuto un culo che quello si è messo in mezzo non mi facciano male ci siamo delle bestie umane bella partita che appesimo le comodo vabbè giusto vado qui vabbè mi sarebbe quando trovo il profilo di un mio amico perché sto per perché c'è le skin bella e poi mi ha chiesto di fargli le missioni lui me le ha fatte il passo scorso e ho detto vabbè non le faccio questa è la partita questa comunque quella di prima sì anche se non l'ho fatto io un cazzo io ho arrestato le persone sono stato un medico altro che medico lega andiamo a corso aspettate allora non ci sono ancora mettilo qua il punto ma mattia ancora mi ha votato non penso perché prima l'ho sentito dentro alla cosa siamo andiamo all'hamburger vai vai scusate ragazzi vai vai boschetto bro ok vai scatti amiculi a tutti bro apro sugo apro sugo la maglietta del michael jordan la maglietta che è una di te a scopola ma bravo a capire che ci c'era figlio da me che fallo è quel nero probabilmente dimostragli che ce l'hai più guarda ti sei iscritto al canale bro se ne sta andando ma capita che ce l'hai più grosso vedi se tu pensi che ce l'hai più grosso che da là ma non c'è un'arma dimmi zio dimmi zio ma ti sei iscritto tu al canale ora ora cioè non ho già prima mi sono iscritto allora c'è scudinirca che bella hai un pompo in più? si vieni qua eccolo oh d'accordo che cosa sta crepando che cosa voglio fare allora non mi fa no la sinistra bro arriva omega bro arriva omega bro arriva omega ma col jordan che ce l'ha piccolo vai 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 ma col jordan non potrà mai cipro nooo ma da di forno da città nooo ma da di forno da città ha sterato omega no raga ha sterato omega ragazzi ma col jordan ma col jordan ma col jordan è1 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 è oggi è ricchi bombaMbEr bella riga sgana a flu ma non mi è entrato un colpo un colpo che mi è entrato è stato intenso no ragazzi ripeto voglio questo tattico blu voglio questo tattico blu ma quel micro giornate c'è la piccola dai ti lascio pure il tattico grazie zio grazie grazie che non mi chiamo sottidut siccome ho stuprato la mano si è spaventato madonna mia io la dovevi stuprare troppo forte che ecco te l'ho detto cazzo che ecco cazzo mi convini io ti ho detto che stai a mettere in crudo troppo forte e poi si venga in qualche modo mamma mio voglio solo dire io il blu che è quel cazzo di vero è andato prima da mattia c'è prima da mattia poi da che ecco qualcuno lo doveva prendere c'è il blu che raga col suo cazzo ce lo fa no è perché ti spiego se non è la peromega che l'aiutava il loro cazzo risultava grande con una pistola normale comune ora da voi avete il rainbow no no non vabbè allora diciamo che se noi moremo come facciamo le persone già che bello ma facciamo i da black ops si 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 eh però c'è un profumo che non ce l'ho eh che ecco minchia sempre tu sei oh che ecco oltre il moderatore come i balli direttamente da questo colpito all'assalto ombro in tutto questo io oggi vieni a 12 ho fatto due minta però e parlateci cazzo comunicazione un gas e riccione a 93 tu continui a ricco ora ne ho 104 ricarica di una cosa mi stai masturbando ancora però vieni vedi che poi è il caso poi dimenticero dentro appunto il pantaloni bottito eh vabbè lega faccio evitare il capito eh sì ma ti fermo di un attimo atti bravo piqui guarda qua che è 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 ma se cosa si fa ora pam minchia allora matti mi devi dire una cosa matti ho lasciato una scilla 50 a boschetto perché non l'hai preso matti mi chiama veramente matti ma grazie no grazie matti già se a questo mi duecento di scudo non posso manco perché c'è con la minchia di lato oh ma tu sorella no ma comunque io non sto registrando più io ciò io sono in live bro ancora sì ma finché no vabbè comunque abbiamo fatto una bellissima partita prima però ma siccome lo so perché sono ancora in live perché usciranno sicuramente altre belle partite ci sono altre vittorie o anche questa in live bella ricca mi mancava mi mancava eeeh poi vedo che sto spara con i cicchi ho visto ho visto ho visto ho visto un simone che ha fatto un 360 proprio banale ma cavolo ma cavolo ho visto un simone serbatico ho visto un simone serbatico ma che cazzo è davvero un gioco di merda che non costruisce eca di Phose di infبattura su piccolare o ba 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 ko perchè ti faccio vedere comunque tua madre i jail ma 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 La mia scala è di satan la mia scala ma ma cagare scusami ragga mo feel cagata una cosa ma ma l call iarken si ha fatti così e skill del pombo così e si rende 4 così non è il merito anche si guarda il mio soltanto 184 anni colpito questi colpi medico lasciameli mattino scudini nessuno io no era qualcuno da colpi del cerco e cazzo però che c'è ecco solo 24 stavolta ragazzi colpi del pombo per gestente a chi come non c'è via gli attori io sto giocando scherzare però perché mi farei la peggio cosa i peggio blind raga prima abbiamo rischiato in casino prima abbiamo rischiato in casino ma raga ma c'è 191 di legno è mattone e ferro ma che cazzo manco a farlo apposta ci riesci che ecco ma io ho visto che mi stavo osservando raga ma è bellissimo a sinistra quello che ecco che cazzo sei uno stalker a me mi suicidò a me mi suicidò che come ci stiamo osservando che come ci stiamo osservando guardami un attimo guardami un attimo guarda come costruisco veloce guarda sono un best player ragazzi ho lovinato la perfezione cazzo le orecchie cosa ha combinato? si è comunque un fratto praticamente ragazzi le orecchie montaggi vostri mi sono esperto ai paviglioni guarda come sono eh la mamma di quello spaventavasse cazzo ma c'è ancora un ragazzo che sta guardando la live è un bravo ragazzo che vuoi dire grazie mille bra bra no bra no tutto ma non bra ma che ecco ma c'è ma 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 che ecco guarda qua Matti dammi un po' di legno che ecco subito zio subito aspetta un attimo ma che cos'è sta cosa Guarda in basso sinistra Che conoscere Eh persone che volano Mi hanno mandato un messaggio Siccome c'è tra l'incarica E' un messaggio Scusi qua Sulla live Dimmi che è stato a scrivere Vabbè io odio quelle persone Quelle strane Vabbè Vaffanculo non l'ho prendo più Che ci giuro Eh basta in culo va E ti confermo pure Che non me ne fottai niente Dopo ti leggo bro Mamma di costa Mamma di costa putida Vecchi di putida pantano Da sinistra Da sinistra Da sinistra Sto io sto io sto io a carburo Ci sono io a carburo Ci sono io Ma non ti vado solo Vabbè rega Porco ma No rega Non mi può finir così No porco Cazzo ma ericchi Ma tu che ciutti che io ho tirato Cazzo cazzo a fare Ecco metto di vita fra Vai che ecco Vai che ecco Ma vai vai Beh vaffanculo Bucchina assorda Farsi un full team Parte 1 Eh ragazzi guarda Si dice Vado qui Vado qui Vado quante chi le c'ho Vado 5 kill Bella bro Come le hanno le maghe di queste Basta Ma adesso è pure il mio No guarda il tuo non si nota Da quanto stai spavendo manco si nota Ho bisogno che mi dai scivini Eh qua ci stanno scivini I scivini qua ci stanno Tra quello ci si due Facci ridere La parola leggo tutti ragazzi un attimo solo che Eh un attimo solo che stai volendo Oh 200 commenti sono arrivati 200 commenti Perché sto piccolo Non so se c'è 999 No persone bro No è tutto qua Dove vedi? Non aveva prendi cazzo L'ho minchia qui Oh bastardato Dio sca Vieni qua bro Ma io non ho un palore L'hai preso tu? Può essere E me piace Oh ma Ancora io mi confondo con il cazzo di comando Il primo e il dei due Aspetta un attimo Fammi leggere qua I commenti Ok già io me lo do Dovevo scheletro in carico E poi faccio Ok Perché nella vita uno dove sembrare scarso E poi invece già si Allora Oh no salire Ma sapere che sto con un po' il dolore Aspetta vabbè faffanculo ma lo sto a questo Adesso si scorica bra Allora Ho flashato un music Ah lega ma io sono un po' il 6 Fa solo tutto Che c***o Già e per guarda Neanche Neanche ti rispondo Perché No No C'è se non so No Scusa un attimo Scusa un attimo Scusa un attimo Anche ti rispondo Perché La tua tuttivaggine Probabilmente Supera Il livello Della tua età riti vedi ben vicini nemici per i vicini più madre pull ce la volete avere noi che guardo comunque se bravissimo a costruire ma guarda ma guarda che sono porti in una maniera troppo bella di materiali e si vola dovuto ora per il team cosa facciamo che cosa è una pena cose togli marco e rock e metti di chiesi una no no raga oppure facciamo un altro gruppo raga nel problema e chi lo fa di che senso chi lo fa c'è anche un problema sì lo so proprio il problema allora io qui lo abbandono quel gruppo allora seguiamo anche un colore di più forte ricordo che si fanno i cassini ragazzi ragazzi sei d'accordo c'era la scelta è vostra cioè non c'è bisogno no vabbè non so se mi fotti le armi che co non ho capito io mica che co ti ho così in testo ho fatto il punto di dopo in tempo per me ho messo il cibo ragazzi 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 dell'amore ed è me ne me ne fate una pausa g4 ad il per 4 lo sapete perché E' un nero con le scappe di gomma A parte quello Perché le sparite il pene Anche quello La non l'ho mai avuto probabilmente Perché la crelussa Perché è brutta Ma questa qua è bruttissima E' una paura Fosse visual al video Bella giacca Ecco si sembra bravugo Si vede che si vede Raga questo qua Raga Questo qua mi viene in tutto Raga Raga Questo qua viene e mi fa Che è un caricato di giove Ti metto incinta se continui Raga aiuto da me Niente Io c'ho una cosa grossissima Raga Raga Bro però cazzo non gridare così tanto Cazzo di merca Raga da me aiuto No 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 Come ti aiuto Raga da me mi sto fuorando Mi prego mi prego Arriva No 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 Pezzo di merda Io c'ho una cosa grossissima Arriva Riccardo Paule non ne ha Cosa sono le armi Guarda che ecco che stile con il cazzo Che li vuole fare noi tutti Ma non ci riesce Questa è perché questo uomo Ma attenzione Arriva Simone con la sua minigam Guarda dai quando ce l'ho grosso Parate degli altri ma guardate a me Sì sì Già gli arriva una cecchina Tengo La sua best minigam Guarda dai guarda qua Cazzo a fine dei materiali Sì ma tentano finire i colpi Perché altrimenti è più come le secondi Le persone E certo Raga fatemi una cortesia Il solito Abbassiamo il volume No 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 Spam Prima della partita Prima di partire A me piace la sciocca Vero Sì Nove minuti C'è stigazione D'accordo C'è stigazione A me la minigam A partire Oggi vuol che bab E va Andate spammate E poi iniziamo Sì ma Sì ma Sì ma Sì ma E' che inizio E' che inizio E' che prima ucciso Che Aspettato E' che ha abbassato di nuovo Il microfono Così non ti sento Sì ma No no Bossa C'è stessamente Ma l'uva Tutti i fiammi Perché sai Quando le tutei di mattina Si mettono fare Quello portatina Vengono sopra E mi stupro Mi cintro E altri che Di meno Quello spettino Oggi State spammarica C'è state spammaraga Ora va bene Perfetto Ragazza State spammar Io spammar Bravi Cosa scrivete voi? Sperdita Sperdita Mi c'è fatto il migliore Ragazza Ma se non qualcuno Sto spammando Sott'i commenti C'è troppo Più ritardo di voi Non ce ne può essere Ho visto Omega Con le scarpe di gomma Un regar puro Le volevo Ma intanto Lo aveva nel culo Trattata E' un regato E' un regalo E' un regalo E' un regalo Arigua Ah Rega ma mi hanno parlato Di Rickins Quindi manco Di Rickins Posso spammare Ma adesso Spammando Ma voi non avete capito, cioè, non avete capito, perché ora si chiama un Exceed? Chi? Lei è che non si chiama Exceed. E hanno fatto un... Un... Hanno superato, cioè, hanno fatto... Ci sono uniti ad un altro team. Eh, ma perché l'hanno fatto? Non lo so. Che cosa si siano... Non so con chi si siano uniti. Ma andiamo? Raga, la merda si sono morto. Lo sapevi che la merda. E' un zambore. Andiamo a corso, raga. No, no. Vai, Enrique, andiamo a corso. Vai, Enrique, andiamo. Va, vai, morite, morite, morite. Sì, sì, non c'è l'andare che muoio. Guarda che pure voi due da un suono che non è che capisca. Andiamo a contenere, andiamo a contenere. No, raga, venite a tonne, non ci scassate le palle. Ma c'è nessuna contenere? Vabbè, quattometro sì. Vabbè, non fa niente. Andiamo ad aiutare i due scarsi che... Andiamo ad aiutare i due scarsi che... Andiamo ad aiutare i due scarsi che... Non ho capito che ti piango, ormai. Ma ormai secondo me c'è un ticco. Ma ormai se da solo, brutti cani. Ehi, i due scarsi, dobbiamo aiutare. Non mi chiamo Riccardo. Ops, perché c'è il riccardo di chi è il più alto? Chi è il più forte? Riccardo. Non mi ha perso. Raga, vi prego, da me. Andate, va ad aiutare. Anche prima di me. Vabbè, dico, non è in casa nostra. Vieni, vieni, vieni. Raga, aiuta, raga, aiuta, aiuto. Il cavo, io d'ora no. Mi chiamo tu sei là sotto. No, raga, pochissima la vita. No, mi finisci, mi finisci questo pezzo di merda. No, raga, no. No, non lo finisci. No, lo sta curando, lo sta curando, raga. Lo sta curando, vi prego. Ricchi, 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 vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ci la fa, ricca? Sì, è nable, è nable. reato, Righto? Raga, guarda, guarda. Calma, non lucide. Che cavolo, ricca. Aspetta, calma, 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 bro, calma, 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 calma Ebbè, però, sei il rompicoglione E' più una Ma cosa ti faccio a fare? Tutto questo, checco Sta cagando Brava, brava, come cosa sta cagando Ma quello sta andando da contenere Ti va la checco è gay Vabbè, sti cazzo Ti sti che salanno No, non ce l'ho più Quanto ogni cosa che dice, Simone è gay Abbè, tu serà il gay Basta però raga Ma si comunque noi due siamo molto amici Ma fa che schifo raga Ma vedi che tutto è difficile da fare Ma però è schifo raga fa veramente schifo Ecco ma c'è un po' bello la dico, guarda, ci sono spide 50, madri, le madri del nero, negre, schiavi, compadini, i giapponesi Brasiliani Brasiliani Quelle belle Profugo lasciami lo schifo Allora ragazzi un attimo in silenzio Un attimo in silenzio che vi spiego a vincenzo come partecipare al contest Ragazzi allora per partecipare al contest è molto semplice Basta andare sulla mia playlist del contest E andare a vedere il video del contest Dove ci sono tutte le informazioni E da la guardi Guardi il video e capisci tutto Va bene? Dai bro Iscriviti al canale ovviamente per partecipare ti devi iscrivervi al canale Se non ti iscrivi al canale vediamo a casa tua E non facciamo niente Che cazzo Vediamo a casa tua e ti faccio vedere quanto la grosso che è Ragazzi Questi qua non si iscrivono Calma Quando c'è la calma Eccolo mica voglio il cazzo di che non lo voglio vedere Che ecco ma ti ho detto una senz' una cosa importante Allora ragazzi Per iscriversi al Per partecipare al contest Bisogna iscriversi al canale Prima di tutto Attivando la campanella degli iscritti Lasciare like a questa live E andare a vedere Il video Del contest Dovrete scrivere Hashtag contest nei commenti E ovviamente lasciare Un like anche la E' molto senso Sì quest'oggi Passate dietro il mio culo Che con le mani Che con le mani Che con le mani Molto semplice Ma io Riccardo Righi ce la fai o no? Raga io ho pochi materiali Eh no Eh sai come è? E io sto morendo Mettiamo preferisce Vole pochi materiali o morire direttamente Che con le mani Ma che cos'è shaltà Non, non, non! Raja, non! ora non c'ho colpi di un cazzo il cecchino che per favore però il cecchino che chiudono per l'amor di giudice mickey o queste g che è già finito di è vero che lei che dici perché ragazzi colpire il pompo però è giusto che con i calmi ammortacci loro dovevo vedere quanti eravamo in live ho fatto un casino assurdo dove ce l'ho ecco vai non ce l'avevo subito zio continuai bro continuai bro ora ne ho 44 vieni che ho tenuto pure a te eh si vieni dai dai persona da me persona da me si 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 non capisco dove sono però raga ah ok l'ho visti l'ho visti atterra uno atterra l'altro finito siamo dei bomber raga mi avete finito c'ho riposto malissimo dai colpi di scommeratore raga c'ho rimasto malissimo colpi di scommeratore il cin 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 bro quanto l'hai il chase il chase raga che sto muotino il medico raga mi... raga mi progetto l'essere che ne so oh qua 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 dove sta? a sinistra raga è onun demasiado mio 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 mioوio no i cig nawet mio mio amore daiены evitare dei bambini eri tento di legno me lo potete dare perché io ho con media сейчас c20 40 io no 400 ma ragazzi fermati questi stanno ma che quando mi sono fermato è scomparito è scomparuto ha terrato un ragazzo arrivo con l'unica finiamocelo bravo ora di acqua quattro fatti grazie bomba ragazzi che veniamo in azione avete scendini io no però concibendo io pure 15 bene a quello la io ho aperto le sciapette con il cerchio ragazzi vi dico soltanto che di quattro anni che nell'invento di tre di questi sono colpimenti da dove va dietro da dietro ma vostra madre però cazzo da dietro all'albero è un pacchino bello solo ma i miei cittori andiamo la sei fa se frega nel tempo c'è un materiale io vi posso dare qualcosina ora io non ho vita modo oggi che nica è sempre quello la forza del minino quello termico come stasso ho anche un peggio raga ma stai in culo all'universo andiamoci andiamoci noi non c'è più un cazzo no raga pinnacoli spaccano ho visto ma no che ciotto l'hai visto che ecco si allora ma quello dietro a noi buono lo so l'hai visto che mi sento power ranger no no proprio power ranger coiore simone o la mini mi dico una cosa cosa ci fai la stavo prendendo quello dietro comunque grazie mille per ancora i due spettatori live ringrazio vincenzo carpentiero che ha commentato con hashtag contest vincenzo ti ricordo iscriviti al canale perché l'estrazione sarà alla quota dei dei cento iscritti ma penso tutti ci sia già iscritto ma io ho un minino termico e non vedo un cazzo di nessuno questo minino medio ma quello dietro noi ragazzi è scomparito è scomparito è scomparito ho capito tutta questa propotenza contro gli altri come state guanyu quanti kg abbiamo io 5 voi oh di fronte a me di fronte a me di fronte a me confermo no raga andiamo andiamo che stanno fai andiamo 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 a scroccare dai sono affidata con un altro io mi sto guardando l'orecchio potrei anche però ma non lo leggeremo la meraga no sei tu ok c'ho questo questo qua questo qui è tutto male ah il demonio da dove bro la gente lì sopra quanto sopra quanto cazzo mi sono salvato dietro di te dica atterrato quello dietro di te buona buona simo raga aiuto nooo raga aiuto noi finisco simo silenzio beh non mi troverà mai visto qua cosa è la mia assaggione di vita vabbè ma ne avevo atterrati duuuu duuuu eh vabbè forse 7 di lu vabbè vabbè comunque ragazzi ho intrati tutti un casino 72 ciò però non voglio non cazzo è ricky che è diventato power ranger gogo power ranger allora c'è un insieme di giornali nooo hanno messo la break dance raga ma di nonostra schiena hanno messo che figata ma che figata ma che figata ma che figata sta minchia dai è figo ma è bruttissima ma è bruttissima ma è bruttissima ha senso e me la break dance è quella bella sembra che stai groccando qualcuno a me piace tantissimo attacco nuvolo tiki e matti ma siete pronti per favore si 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 oh e l'ho fissata quella a mille cose eeeh nnnnnnnnnnnn che bello finalmente finisci gli esami e non hai la cosa di svegliarti un giorno presto per se eh si perfetto anche a me porca cara ragazzi ora voi quando venite a letto ragazzi c'è quando staccato c'è pure rimanere fino a letto ragazzi che se mia madre mi viene a riamarmi no ma almeno non voglio che io non me ne faccio cioè mi chiamano sì ma non c'è tutto niente voi andiamo come tu ok rapido 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 un po' di sonno che forse non lo stacco no ricazzo io ti picchio se tu stacchi no fra di tu fra vedi che stavate mi sa che mette alle circo a mezzo del mattino non mi interessa niente non mi interessa niente ciao oggi torgo fino alle 4 del popolo non mi interessa niente a me non mi interessa niente no non mi interessa niente no ti vengo a casa e ti sono dove svegliare ma non ti faccio un male ma vedi che paesi si chiama il team raga più di un team italia sempre comate vabbè grazie italia mi fai che paese bella bros quanto mi piace ucciso uno atterra un altro eliminato tendito di cala da personale un po' di nervi nonono benissimo merica nooo io ho provato col cecchino il tre colpi... io ho provato col cecchino aggressivissimo rosa un buon cicchino regal con quel compo non si trova mai ebbè io per tutti carica usi con l'incorporato ho preso tutto raga tutta questa scuola quando forza e non c'è la ricarda non c'è la regalia entro con il mio altro profilo e me la metto ma quella musica non c'è la scuola con la scuola simile metterà di nuovo giallo con la propria scuola di questa situazione che è quella che c'è un po non ho tutti i piaciuto del piaciuto del piaciuto io metto questa poi non so voi per il piaciuto le più caratteristico si ragazzi tutti così non è stato ma l'arrivo il piaciuto No, 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 no No, 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 no Porco, porco, vi dico Raccasione è l'uscita il corpo No, no, ragazzi Vai, mettiamo casuale, vai No, no, mettiamo questa qua No, mettiamo questa qua No, mettete quella normale, raga Dai, mettete questa, raga Dai, la ricca, veloce, pure tu Ma tutti i neri siamo No, mi sono stuprato Tu sei quella che verrà stuprato per prima Allora, ci sono una cosa quattro Allora, una nella bocca No, ragazzi, siamo in live Madonna Ancora in live, stai, si muoce No, fuchi Mi spiegherò con i miei colpi Ragazzi, portarci vostra Non mi sento più le orecchie, ragazzi Non mi sento più le orecchie, da quanto cazzo vi date Che buona live, le la segnalano Esatto Ragazzi, mi cura, devo entrare sulla terra Ma non mi prego, non mi mettete il cazzo in qui Perché veramente Già, Riccardo, io ti sbaglio È vero, è vero È vero Guarda che ecco che mi vuole fregare il pompa e ci riesce Grazie mille, quattro persone Ora è live Oh, sono chiamina i pan Riccardo Oh, è vero il pompa singolo Mi ha sparato un colpo, però il suo colpo è andato perché l'ho atterrato prima io Che ecco vuoi fare nei questi che mi stanno piccolando? Che come vuole, è un piatto di utile Allora, leggiamo le comanti Aspettate un attimo, ora leggo Ucciso uno con la pistola Ucciso uno con la pistola Poi, qua c'è una slurpa Comunque ve la porto ragazzi Francibali fino al carasso del live Finché non mi stanco Cioè, non vado per dormire Wow Non sapete solo a spammare Giovate bene, non urlate la gente Vi cagherà Ma avete dicione a testa Dark, se lo dici tu Nabbo Tu mo sblocchi Omega Si proprio strunzi Ma, vabbè Allora Questo così Questo così Perfetto Ragazzi, comunque Se vedete la skin da Nabby Forse ci sarà un motivo Vedete Un cazzo di dorso Del corvo Col piccone d'Omega Ragazzi, avete un pompa in più? No, rega Guardate Non è che c'è questi balli Forza Napoli Mi serve un pompa, raga Di Valermo Allora ragazzi Vi ricordo di iscrivervi al canale Lasciare la live E se volete Vincere 10 euro Di andare a vedere L'ultimo video del contest Siamo in un'altra Guardate Tutto quello bianco Raga, però non gridare La parte della schede Raga, oh Raga, mi avete stilato tutti a R Non c'ho più la R Perché l'ho fatto anche con l'altro Come ti fa Oh, ricarica, ricarica Una cosa Accompacciati così Guarda se una cosa Guarda se una cosa Però, però, però Però, però Però la cosa si deve stare Raga, raga Raga Raga, per favore Mi sto chiedendo un favore Non gridate 10, 10 Mi sto chiedendo un favore Datemi un cazzo di fucile d'assalto Qua Ecco, ecco Cosa ho la rossa Shield grande a 50 Vieni, accovacciati Vieni, accovacciati Siediti 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 Stai così Fermo Fermo Stai fermo così Riky, vieni Chi sei fermo Riky Vieni a vedere Dove sei quando Riky sono andata a fan Raga Se io Per esempio Spammo nel live di Rikings No? E Vengono cinque persone E vedono Quattro persone che gridano Le persone Cioè Non se la guardano La live Quindi Raga, ha capito Quindi Vi chiedo Sì, ma c'è una coppia assalto Raga Vi chiedo solo un favore Di Ora quando Spameremo Faremo e dire Di non Non atterrato Dove, dove? Ragazzo per portafogra Eh, ragazzi Ho mi lasciato il pompa blu O di castro Eh, no Non ti lascio un cazzo Non ti lascio un po' Colpi piccoli Grande bro Grazie Raga I costi del tutto li avete? No Io non è Io non ce l'ho un po' Ah, vieni Fra, fra, vieni Dove sai che? Eh, matti di Vieni questo Grazie La mia forza Oh, matti di Colpi meri Ragazzi non dieci Ragazzi, facciamo le colpi del tutto Ragazzi, facciamo le colpi del tutto Ragazzi, colpi del tutto Ma porca proia Siamo in là Aspetta, Simo, devi venire un'altra cosa Guarda, sapete, sei troppo figa Guarda, abbasso di un attimo Guarda che ti faccio una cosa io Accovacciati 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 Ecco Però questa cosa Ragazzi, venite qua dove sono io Venite dove sono io Veloci Fermati, fermati No Un po' più indietro Ragazzi, qua Dove sono io ora Poi ci chiudi in una piramide No, no, no No, guarda Vieni qua Vieni qua, matti Che qua Venite qua Ecco Che qua Riccardo, vieni Che cu Che cu Vieni qui un po' più qua Perfetto, rimanete qua No Fermo No, praticamente Guarda, ricarica Simo, guarda Sa cosa Simo Che come di qua Però sa cosa va fatto Quando il giocatore sta a terra Perché viene atterrato Vieni, frucio Sì, lo so Lo so Lo so Vabbè E' in cima Guarda Sa cosa Lo so Lo so Guarda E cosa di Quella cosa che Lui atterra Lui va indietro E tu vai avanti No, no No, no Non è Non è Non è È diverso Ma so Io ho finito di fare questo Non lo so perché No, no No Davanti a me Matti Matti Lo lasci Matti Sì Però Un attimo Si si armo così Accovaccia Ti fai così No Ti picchi Ti fai su D'arte Sto arrivando Veniamo 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 Sono bene qua Bro Sparati uno shield di 50 Eh Vabbè Sto già qua Io Vabbè Vieni qua Vabbè Vabbè Sto lasciando Da dove ragazzi Coordinate precise Raga Li vedo Li vedo Li vedo Raga Io Anche sud Ragazzi Anche sud Sud Guardate sud Raga Io Ho 18 colpi Medi Ho finito Qualcun Mi dà qualcosa Vieni qua Ma è una macchina Lontanissima Raga andiamo tutti Raga Sono tutti Allora io ho 7 colpi del pompa E 18 colpi di air Cosa deve fare Io ho 7 colpi del pompa Io ne ho 1 Raga da me Raga da me Raga no No raga Buona terra Col cieco Buona bro Eh Matti Matti Lasciami il loot Matti 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 Uccidilo La mia scelut Fregatane Fregatane Di quello Grazie bro Prende soltanto questi colpi dell'assalto Che mi servono Io ne ho 18 bro Ne ho 18 bro De l'assalto Tieni Matti 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 Tieni Oh grazie Tieni questi Eh bro Veloce Ok grande bro Andiamo 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 No Rica Bravo Colpi del pompa Continui bro No Il st משan è no, non c'è mio tratti, non c'è quello che sento ma figlia Niente noizare Che vai, che vai Stano, c'è una nascita, la sinistra Che vuoi chiede di essere Chi va, chi va Chi va, mi sono Socorro Socorro, socorro E che cavolo, un zonzale che mi passano davanti Da me, ragazzi No Eliminato No, no Ragazzi, un altro team da 300 Capito, ragazzi? Sì, sì, ho capito, capito, capito Conto del pompa, avete la gamba? Sì No, ma del pompa, dell'assalto volevo dire Sì, sì Grazie Grazie Ragazzi, ovest, ragazzi Andiamoci in safe, ragazzi In safe, 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 andiamoci Ragazzi, oh, un azio Oh, mio Dio, ragazzi Stavo per fare blind Ragazzi, la safe Prendete una gemma, andiamo Ragazzi, la gemma, cazzo Ragazzi, la gemma Ragazzi, la gemma Ragazzi, la gemma Ragazzi, la gemma Mi stanno a mangiare il zanzare Mortaci, la zanzare Oh Ma mannaggia, oh Al pompa, sì Riccardo Riccardo Spamma Nel frattempo Da Reckings No, frate, la Reckings Sì, io già mi abbiamo bambato Tutti i profili E vedi, nelle labi più piccole vai nei calanti più piccoli Cosa? Inela Per favore Io 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 la faccio la prende Vabbè Un'altra rimane più bassa C'è un'altra due Ragazzi, ma quello di vita messo peggio Ragazzi, ma quello di vita messo peggio Ragazzi, si sparano Eh, cazzo E dimmelo No, 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 c'è Ce l'ho pure dietro Si può E copriti pure dietro A giù A safe, ragazzi Non è per forse in safe Ragazzi, aiuto No Ma il carcavato Sono a terra Sì, ma comunque io Sì, ma comunque io Ditto, ditto, ditto No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Tre pure a sinistra Eh, vabbè, quante persone Eh, lo so, è John Wick Almeno, 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 credo di dire Chi l'ho portato No, è uscito Eh, io spengo Perché Non è che devo spendere Esimili mia madre Vabbè, dai, non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Che è con tu le mani Ma mi ha fatto uscire Tella forte Non so perché Vabbè, dai Facciamoci le coppie, dai Beh, ragazzi Siamo domani Sì, è stato un piacere Bella, bro Oh Ti ricordo Bro Ti ricordo di Spammare un po' In giretto Un gito, dai È stato un piacere Dai, bro La ricerca è l'amicizia Eh, che conosce Ce l'abbiamo, la ricerca Oh, Ricky Eh, a Ricky Gli ho mandato l'amicizia Eppure a Simone Sì, poi te l'accetto Dopo me l'accettate, raga Vabbè Raga, domani giocate voi Dipende, penso di sì Comunque Sì, sì Sì, sì Ok, dai Vabbè, dai, bro È stato un piacere Ciao 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 Vedi chi Tu continui, giusto? Dai, io spammo un attimo Ti ho messo la skin Mettivi la minchia di skin Aspetta che Ma mi è stai viaggiando No, fra C'ho le zampere che mi stanno uccidendo Aspetta, fammi spammo un attimo a Regins Spamme nel live un po' più piccola Spamme troppo alte Spamme 50 minuti all'esame di 50 minuti grazie 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 sembra ma si mi fa un bordello e io li ho chiuso le serrande Io purevo uscire per strada No, io no Ma comunque devo questa foto D'albero E beviti qualche cosa per riprenderti Minchia, mi faccio il caffè Madonna, quante persone Pro, pro, almeno 50 persone No, pro, ma che cazzo è? Manco il primo giorno No, bro No, bro Sono con te Io non so dove sono No, bro, manco il primo giorno Che uscita per Napoli Eh, ma io sono morto Bella, bro Conferma Arriva Il piccone Vabbè, direi Bro Fra, ti ricordo che stava laggando anche a me E io c'ho una buona connessione No, fra, ma a me Io c'ho una ventimenga Ma fra, considera che Che non laggo così mai Te lo ricordi prima quando laggavi? Vabbè, fra, ma prima perché eravamo Quando è che laggavi? Ah, ma bro Ecco, perché erano le squad Ah, minchia Qua, fra, ma Minchia Fra, ti imprevo Fra, ma io non stavo laggando perché Ma faffanculo Allora, dai Chiudo la live, bro Ok, giochiamo un po' noi, dai Ragazzi, è stato un Ottimo, no Ragazzi, è stato un piacere Avervi live oggi Ricordo Di iscriversi al canale Se non l'avete ancora fatto E andare a vedere il contest Per cercare di vincere dieci Ragazzi, è stato un piacere Alla prossima Bella Alla prossima Alla prossima